Si tratta di un laboratorio dal basso, quindi di un'iniziativa realizzata dall'Arti che noi abbiamo cercato di cavalcare perché è una possibilità importante per il nostro magazine PUL, quello di provare a gettare una riflessione in Puglia su quello che è l'attuale stato del giornalismo e dell'editoria regionale ma facendolo insieme a dei personaggi di caratura nazionale e internazionale come avete visto il cartellone con gli ospiti e i seminari che verranno affrontati durante queste quattro giornate sono di altissimo livello e il primo ringraziamento va a coloro che hanno dato il loro ok per essere qui in queste quattro giornate. Io non mi dilungo adesso nel parlare del Link Festival, la cosa a cui tengo innanzitutto è ringraziare veramente l'ordine dei giornalisti per il supporto che ci ha dato in queste settimane, l'università degli studi di Bari, il master in giornalismo che l'università tiene insieme all'ordine e poi naturalmente le istituzioni, innanzitutto l'assessorato alla cultura della regione Puglia, Puglia Sounds e Puglia Film Commission che ci hanno supportato tanto anche nel lavoro di preparazione di questi quattro giorni e infine il distretto produttivo Puglia Creativa che per noi rappresenta il gancio tra la formazione che è essenziale in questo momento soprattutto per chi vuole percorrere poi la carriera del giornalista e le attività produttive legate all'editoria. Io lascerei subito la parola all'assessore Silvia Godelli, assessore alla cultura della regione Puglia che è stata fin dall'inizio coinvolta nell'apprendere di quello che stavamo realizzando e poi nel darci il suo supporto con il patrocinio che per noi è molto prezioso e quindi cedo subito la parola a Silvia Godelli, assessore alla cultura della regione Puglia. Grazie Michele. Una breve nota di commento, anche io vorrei sentire almeno un po' delle relazioni. Poi c'è una curiosa concomitanza oggi Michele perché tra un'ora, un'ora e mezzo la Gazzetta del Mezzogiorno presenta l'archivio digitale del giornale ovvero la raccolta digitale di tutte le gazzette dalla Fondazione dei Tempi Nostri quindi farò un po' di pendolarismo tra l'una iniziativa e l'altra curiosamente allocate a pochi metri, curiosamente entrambe sul tema dell'informazione ma evidentemente si tratta di un tema di tale attualità e di tale valore e significato da coinvolgere oggi per intero la città e le varie iniziative che si svolgono in università. Intanto grazie per essere qui in tanti, tanto giovani e tante donne perché il colpo d'occhio visto da qui è particolarmente interessante anche sotto questo profilo e muovo da quest'ultimo punto della presenza così nutrita delle donne e anche giovani e giovanissime, lo vedo da qui perché sono il segnale di una società che è cambiata non di una società che sta cambiando di una società in cui il fattore culturale, l'elemento culturale in particolare per quello che riguarda la sua declinazione in termini di informazione e di comunicazione ha trovato un livello effettivo, oggettivo di parità perlomeno sotto il profilo della partecipazione poi noi sappiamo benissimo quanto difficili, controversi e spesso veramente inaccettabili sotto certi profili siano gli esordi e questo è il secondo aspetto che io voglio richiamare la presenza della rete, la diffusione ormai della rete e la diffusione della informazione online sta trasformando in maniera assai profonda il mestiere di giornalista lo sta trasformando in qualche modo anche rendendo possibile e questo è l'aspetto più inaccettabile a cui facevo riferimento l'accesso a questa professione senza le tutele fondamentali di un rapporto di lavoro è come se, dico come se tra virgolette si potesse fare informazione a prescindere da un datore di lavoro e dalla certezza della continuità del mestiere nonché della sua retribuzione, nonché dell'applicazione dei contratti di lavoro e mi sembra doveroso parlare di questo proprio nel momento in cui tantissimi e tantissime ritengono possibile abbracciare questa professione farne l'obiettivo di un progetto di vita un progetto di vita indubbiamente molto interessante essere testimoni di una società, trasmettitori dei contenuti di una società trasmettitori degli eventi, delle trasformazioni e così via nella posizione dell'informazione in riferimento anche alla straordinaria facilitazione rappresentata dalla rete non può snaturare per un mestiere tanto sotto il profilo delle tutele fondamentali quanto sotto il profilo della qualità di questo mestiere e io credo che questi due aspetti debbano e possano essere correlati tra di loro io conosco moltissimi giovani e molte ragazze che hanno tentato questa strada e che due, tre, cinque, sei anni dopo la abbandonano pur avendo dedicato a questa intrapresa moltissime risorse personali, culturali, energie perché non sono garantiti nel prosieguo di un futuro allora io lancio proprio un vero e proprio appello su questo di una sorta di patto con le nuove generazioni patto per il futuro dell'informazione che assicuri e garantisca professionalità, qualità e tutela a tutti coloro che sin da ora si pongono nella posizione di costruire questo futuro sì perché l'informazione e l'informazione in rete diventa fondamentale come vedete io sono anziana sono come si dice un vecchio lettore di carta stampata a me è stato messo in mano il giornale quando avevo 10-11 anni e ricordo ancora e saranno ben pochi in questa sala poterlo fare il numero zero, anzi il numero uno di un grande settimanale grande anche come dimensioni che era l'Espresso io ero una ragazzina e a me fu messo in mano l'Espresso una ragazzina piccola mi fu messo in mano l'Espresso da mio padre che mi disse questo è un giornale completo lo dico anche in omaggio al suo fondatore che insomma merita un omaggio da parte di questo paese da allora è passato tantissimo tempo oggi la carta stampata continua ad avere un rilievo molto importante ma purtroppo molto spesso rischia di essere o autoreferenziale o proposta a un'area molto ristretta di fruitori noi sappiamo che il numero di lettori dei giornali e della carta stampata in generale va scemando progressivamente e temiamo che questo strumento si svaluti si svalorizzi perda di qualità ed è un rischio che si corre è un rischio che si comincia a correre tangibilmente ma è altrettanto importante soprattutto per la facilità d'uso per la facilità d'accesso e per la straordinaria diffusione porre l'attenzione alle questioni di qualità dell'informazione che viaggia online dell'informazione che viaggia in rete e alla qualità di coloro che si misurano con questo tipo di strumento come vedete non mi riferisco all'amplissimo mondo di chi si misura con questo sotto un profilo diciamo di dilettante allo sbaraglio tra virgolette ma di chi pensa invece che sia uno strumento reale anche se non rappresenterà per sempre la sua professione vi ripeto è necessario un patto per la qualità un patto per la chiarezza un patto per la completezza e la serietà di questo tipo di informazione è una tutela che noi dobbiamo tutti insieme garantire rispetto alla quale diciamo guardare al futuro in un'ottica di migliore maggiore, più allargata e più diffusa partecipazione può diventare veramente una ricchezza e un fattore di promozione della società io a questo aspetto credo credo molto credo che su questo le sfide siano tutte ormai già aperte e in corso mi auguro che tutti insieme a livello locale ma anche a livello globale queste sfide possono essere raccolte, rilanciate moltiplicate e possibilmente vinte grazie e buon lavoro a voi quindi io rinnovo il ringraziamento soprattutto all'università degli studi di Bari innanzitutto per averci concesso di utilizzare questa splendida sala che è anche abbastanza capiente più o meno a quanto pare e oggi il rettore non può essere qui per fare i saluti istituzionali perché è a New York dovrebbe essere dei nostri nella terza o nella quarta giornata ma abbiamo la professoressa Marina Castellaneta che oltre ad avere vorrei fare un ringraziamento personale per tutto il supporto che ha dato alle attività di pool che sono state realizzate con l'università sarà anche la docente ma direi la professionista che introdurrà Cristian Rocca nel seminario di questa mattina e cedo quindi a lei la parola per i saluti dell'università grazie Michele e grazie a tutti voi per essere qui naturalmente i miei saluti istituzionali saranno più brevi di quelli che di solito fa il rettore quindi non vi preoccupate troppo voglio innanzitutto ringraziare tutti e in particolare Michele Casella per l'organizzazione di questo importante festival appunto l'Inc che è al secondo anno e che si è ormai consolidato nella realtà barese ma direi pugliese in generale consentendo anche a giovani appunto che hanno aspirano a diventare giornalisti o che comunque sono impegnati e interessati alla comunicazione alle nuove tecnologie di essere continuamente aggiornati e di poter interloquire con ospiti di grande rilievo come appunto è il caso di oggi ma anche dei prossimi giorni ma oggi con Cristian Rocca che poi introdurrò e poi di con cui parleremo successivamente per l'università di Bari quindi è molto importante partecipare a queste iniziative e lo ha fatto anche d'intesa con la master nel giornalismo possibilità che ha consentito di superare non pochi ostacoli che abbiamo incontrato nel corso dell'organizzazione ma che siamo riusciti con Michele appunto a superare tra l'altro appunto l'università aveva preso e speriamo continui questo impegno nella pubblicazione di questo magazine che è assolutamente innovativo e quindi naturalmente speriamo che possa continuare l'iniziativa perché consente anche a giovani appunto di accedere e di iniziare a scrivere a confrontarsi con la comunicazione in generale naturalmente oggi è un momento questo festival è importante perché consente di coniugare e di vedere dove sta andando il mondo della comunicazione e il mondo del giornalismo perché oggi appunto ci soffermeremo sul giornalismo e i new media che è certamente un tema di grandissima attualità e penso che intorno al 15 aprile se non ricordo male sarà presentato il nuovo rapporto della federazione degli editori italiani sullo stato della delle vendite anche dei giornali che ovviamente sono molto importanti e poi nei prossimi giorni appunto ci saranno degli incontri tematici che sono sul giornalismo e musica giornalismo e design e giornalismo e cinema quindi naturalmente il master in giornalismo che coordino appunto per quest'ultimo anno è molto lieto di partecipare attivamente a questa iniziativa che speriamo ovviamente sia destinata a durare nel proseguo e nei prossimi anni cedo la parola lo facciamo tutto in casa questo testo quindi grazie a Marina Castellaneta che poi diventerà di nuovo protagonista della mattinata insieme a Cristian Rocca io vorrei passare la parola adesso al presidente dell'ordine dei giornalisti pugliese Valentino Rosito che fin da quando gli abbiamo proposto di creare una partnership con Link Festival si è subito reso molto disponibile un ringraziamento lo farei subito anche a Piero Ricci che ci ha dato un grosso aiuto a superare gli scogli di carattere burocratico perché questo evento il Link Festival è anche il primo evento in cui i colleghi giornalisti scritti all'ordine prenderanno i crediti formativi e quindi dato che ho già ascoltato il presidente sabato nell'assemblea dell'ordine e ha dato un contributo molto importante per raccontare che cosa significa fare formazione professionale per il nostro ordine mi piacerebbe che insomma ripercorressimo anche i temi principali e rinnovassimo anche questo partenariato che per il secondo anno si tiene con Link Festival grazie ma non la finiremo più e poi la sintesi dovrebbe essere sempre una delle nostre caratteristiche buongiorno a tutti un saluto a tutti ognuno di voi grazie un saluto ovviamente ai colleghi relatori a Michele agli organizzatori di Link per aver voluto anche l'ordine dei giornalisti fra i promotori di questa iniziativa alla quale abbiamo aderito voglio dire con grande con grande slancio un saluto anche da parte mia ai colleghi a tanti giovani colleghi veramente speriamo che voi possiate essere la primavera della nostra professione anche se in questo tempo ci scontriamo giorno per giorno con un rigido autunno perché non c'è dubbio che la crisi pesa su tutti i settori e pesa come stanno tanti anche colleghi presenti in sala in questi giorni impegnati nella trincea della difesa del proprio proposito di lavoro mi piace salutare in particolare per tutti Gianni Svaldi del Corriere del Mezzogiorno stanno facendo questa battaglia per conservare a Taranto e alla Puglia questa voce l'assiettore Godelli mi ha bruciato la notizia a parte il suo intervento il suo saluto molto interessante su quei punti che ha fissato sulla tutela e infatti per chi è attento ai segni dei tempi non è forse senza significato che questo nostro incontro di stamattina si svolga in contemporanea con questa manifestazione in cui il più prestigioso il più antico giornale della nostra terra la nostra gazzetta del Mezzogiorno presenti su Archibio Web quindi proprio un segno dei tempi inequivocabile e poi nella piccola o grande storia dei giornalisti pugliesi quella di oggi è a suo modo una giornata tra virgolette storica perché è il primo evento formativo al quale diamo vita da quando con la riforma del decreto Monti dell'estate 2012 anche per i giornalisti in Italia come già avviene per altre professioni medici, avvocati e quant'altro vi è questo obbligo della formazione obbligatoria permanente è una grande sfida culturale specialmente nel Mezzogiorno non per coniugare la solita cultura del lamento però ovviamente la viviamo proprio come sfida per assicurare ai colleghi una formazione che non è necessaria di più in un mondo che cambia continuamente abbiamo l'effigenza proprio di andare a rivedere i ferri del mestiere abbiamo bisogno di acquisirne di nuovi e quindi la formazione come occasione per una crescita culturale e professionale del resto come spesso ripeto come dice Paolo Mieli è vero noi esercitiamo un potere che è un potere per contrasto ed è vero per noi noi dobbiamo sentirci in questo paese in questa regione a nostra volta classe dirigente di una società di una comunità seppure con le nostre caratteristiche appunto nel momento in cui andiamo a esercitare un potere per contrasto e quindi questo convegno ci mette anche qui rifacendo un po' con l'intervento di Silvia Godelli non su quello che è il futuro della professione su quello che è già il presente della professione dove i due linguaggi il linguaggio cartaceo e quello online devono devo dire ancora stanno imparando ad andare insieme e l'appello è proprio questo ai colleghi specialmente quelli della ahimè nostra generazione io so che definirvi un giornalista del novecento noi siamo disegnati nella carta stampata ad abbattere con grossa fretta ogni diaframma ancora esistente tra il linguaggio cartaceo e quello del Welby perché io credo che questa sinergia difficile ma ineludibile la dobbiamo costruire perché la carta stampata i giornali continueranno ad essere la memoria solida per così dire dell'umanità e di un paese il web e la memoria liquida ma al tempo stesso inevitabile di questo tempo siamo passati da un'informazione per così dire frontale in cui c'era il giornalista da una parte e il lettore dall'altra invece la sfida della globalizzazione di questa informazione circolare ma paradossalmente proprio nel tempo della globalizzazione è importante riaffermare lo diceva anche questo Silvio Godelli è la qualità dell'informazione quindi la professionalità dei giornalisti e oggi e veramente mi avvio alla conclusione il web è una grande opportunità ma nasconde io direi molti rischi qual è il rischio il rischio è quello che qualcuno ha chiamato quello della pigrizia tecnologica cioè noi oggi abbiamo sulle nostre scrivanie sui nostri tavoli grandi strumenti tecnici le notizie ci arrivano il rischio è che diventiamo non giornalisti ma confezionatori di notizie e invece il buon giornalista perché per essere un buon giornalista va bene avere a disposizione tutti i nuovi strumenti ma i vecchi maestri del messiere ci dicevano che per i cronisti è importante anche un buon paio di scarpe perché le notizie bisogna andare comunque a cercarle a verificarle a controllarle e poi raccontarle cioè c'è questo paradosso oggi ci sono più mezzi per essere dei giornalisti ma questi mezzi rischiano di non farci diventare buoni giornalisti ecco con questo diciamo non segnale di allarme ma con questa prospettiva questa visione che dobbiamo avere ogni giorno proprio per rinalzare sempre di più il livello della nostra professionalità e questo è l'augurio che faccio a voi soprattutto che avete davanti il futuro di questa professione credo che questi quattro giorni ci serviranno ad affinare questi strumenti quindi a tutti noi grazie e buon lavoro grazie a presidente e poi noi perché riusciamo a fare questo festival nonostante sia un impegno sia di carattere diciamo proprio delle nostre forze ma anche un impegno di carattere economico perché abbiamo avuto la possibilità di accedere ai laboratori dal basso che è stata un'attività per noi fondamentale proprio di autoformazione per permetterci di essere qui e quindi io lascerei la parola a Flavia Giordano che rappresenta l'Arti in modo che magari ci racconti sia in che cosa consiste un laboratorio dal basso anche se secondo me c'è moltissima gente che già lo sa qui e in che modo poi abbiamo collaborato grazie Michele buongiorno a tutti io sono Flavia Giordano e rappresento l'Arti Regione Puglia e il programma Laboratori dal Basso che cos'è Laboratori dal Basso Laboratori dal Basso è un'azione sperimentale della Regione Puglia con cui stiamo cercando di innovare perché innovazione è il termine la tag di oggi il sistema della formazione e in particolare della formazione imprenditoriale come funziona Laboratori dal Basso Laboratori dal Basso mi piace dire che è lo strumento per creare la nuova classe imprenditoriale pugliese perché è un'azione dedicata a giovani imprenditori ma anche ad associazioni quindi realtà che vogliono fare quel salto qualitativo è imporsi nel mercato come imprenditori creando qualcosa di nuovo rispetto ad un corso tradizionale Laboratori dal Basso è un approccio bottom up perché sono gli stessi imprenditori o gruppi di imprenditori giovani quindi under 35 che identificano i propri bisogni di apprendimento nel loro settore di riferimento in questo caso stiamo parlando di editoria e organizzano il corso su misura delle proprie esigenze coinvolgendo docenti scegliendo location e modalità per organizzare il corso dei propri sogni è un lavoro laborioso perché vuol dire perché implica il fare rete perché implica sapersi organizzare è fare sharing cioè condividere le proprie agende noi come Laboratori da Basso abbiamo soltanto co-organizzato questo laboratorio noi abbiamo pagato abbiamo diciamo pagato l'attività di streaming abbiamo fatto venire sul territorio i docenti che hanno scelto i ragazzi quindi abbiamo comprato i docenti che ci hanno indicato le associazioni proponenti tutto il resto è frutto del lavoro artigianale del lavoro manuale delle organizzazioni proponenti perché come Laboratori dal Basso ci piace trattarvi da imprenditori noi per esempio a differenza di Bollenti Spiriti da cui siamo generati non paghiamo i costi di organizzazione di Laboratori dal Basso perché pensiamo che il give back il miglior strumento per ricompensare gli organizzatori sia proprio seguire e avere la possibilità di ascoltare e imparare dai relatori dai docenti che hanno scelto ed è appunto questo il caso di Link che è alla sua seconda edizione è un laboratorio sicuramente di successo una buona pratica e mi fa piacere sapere che anche quest'anno siamo in overbooking che abbiamo fatto il tutto esaurito Laboratori dal Basso è anche una biblioteca virtuale di apprendimento ma anche noi siamo sul web sia in streaming quindi adesso le nostre lezioni possono essere seguite comodamente da casa su qualsiasi pc e poi saranno disponibili successivamente anche sulla nostra piattaforma così come le dispense che i docenti e i relatori ci vorranno lasciare per creare appunto un sistema aperto Laboratori dal Basso è un bando che è ancora aperto c'è ancora possibilità di organizzare di coorganizzare altre iniziative sui temi che vi interessano di più dell'imprenditoria ed il bando è aperto a sportello fino al 27 di giugno quindi avete ancora tempo per scrivere tra l'altro visto che siamo in ambito universitario vedo tanti ragazzi che magari non sono ancora diventati imprenditori come te Michele mi piacerebbe promuovere un'altra iniziativa che si chiama Testimonianze che è un come dire è un cicchetto di Laboratori dal Basso mentre Laboratori dal Basso è un programma molto più corposo con Testimonianze voi potete invitare relatori da tutto il mondo che portino la loro esperienza la loro buona pratica di imprenditoria innovativa ed è un bando che si rivolge anche a voi che non siete magari costituiti come associazioni perché può essere proposto anche da gruppi informali quindi chiedeteci come partecipare inviando appunto la vostra richiesta sul sito www.laboratoridalbasso.it o scrivendoci a laboratoridalbasso www.chiocciolarti.puglia.it buon lavoro e grazie ancora ultime annotazioni prima di cedere la parola poi a Cristian Rocca che è il vero protagonista di questa mattina innanzitutto io devo fare necessariamente dei ringraziamenti i primi ringraziamenti sono per le persone che con me poi hanno condiviso tutto questo lavoro le persone che fanno parte di pool cioè Giuseppe Morea Irene Casulli e Vincenzo Recchia che sono qui e che hanno lavorato tantissimo e parliamo di interattività questo festival vuole essere quanto più interattivo possibile di conseguenza noi vi chiediamo di mantenere tutti i vostri telefonini accesi collegati a internet perché il modo per dialogare con noi sarà attraverso Facebook e attraverso Twitter usando l'hashtag che leggete anche se è un po' bluastro cioè hashtag quindi cancelletto link festival tutto unito noi riceveremo quello che voi scrivete lo leggeremo leggeremo anche le vostre domande e quando sarà il momento di porle ai relatori lo faremo direttamente leggendole da Twitter e da Facebook quindi cercheremo di tenere quanto più quanta più interazione possibile rispetto al pubblico e un altro ringraziamento lo vorrei fare sia agli studenti che sono qui in particolare a coloro che poi seguono il seminario che sto curando perché con loro abbiamo provato anche a vedere come un evento può risultare interattivo dato che c'è uno streaming che permette di fruire questo festival da tutto il mondo noi speriamo anche di avere delle domande di avere degli interventi anche da fuori i barri da fuori la Puglia per rendere quanto più nazionale possibile queste quattro giornate e noi abbiamo ringraziato l'università ma questo non significa che non ci poniamo in maniera critica in maniera costruttiva ma comunque critica nei confronti di quello che significa oggi pensare alla formazione professionale o la formazione per coloro che poi vogliono accedere al mondo del giornalismo quando si è parlato all'ordine dei giornalisti si è parlato di questa necessità di creare formazione c'è stata moltissima moltissimi colleghi moltissima gente che ho sentito essere molto scettica prendere un po' sotto gamba questa che è una vera e propria possibilità che noi abbiamo allora mi sono andato innanzitutto a rivedere la definizione di formazione su Wikipedia e ho trovato già una prima risposta già da Wikipedia cioè la formazione è un passaggio di idee di pensiero di cultura e ogni popolo tramanda alle generazioni che seguono il livello di conoscenza che hanno acquisito quindi innanzitutto noi non vediamo questo laboratorio e questo festival come un momento semplicemente in cui c'è una persona che parla e ci sono altre persone che ascoltano ma vogliamo che ci sia appunto innanzitutto interazione e poi sono andato sulla Treccani per vedere che cosa significa formazione professionale e credo che sia una risposta già di per sé questa frase ad alcuni dei bisogni della nostra della nostra professione cioè la formazione professionale ci si propone prioritariamente di contribuire all'incremento della produttività del lavoro e quindi in questi quattro giorni quello che proveremo a fare sarà innanzitutto ripensare la professione del giornalista vedere come si possa attualizzare perché a mio parere la professione di giornalista per come l'abbiamo intesa negli ultimi dieci anni semplicemente non esiste più allora io ho partecipato a tantissime riunioni soprattutto di giovani colleghi che hanno delle problematiche molto contemporanee cioè quanto mi devono pagare a pezzo perché il mio lavoro venga riconosciuto il discorso dell'eco compenso è un discorso fondamentale ma che in queste quattro giornate per quanto mi riguarda dovrebbe essere messo da parte perché io non posso credere che ragazzi di 25 anni di 28 anni di 30 anni dopo una piccola vita di studio si è partiti dall'elementare le medie le superiori l'università c'è gente che parla due o tre lingue c'è gente che ha capacità di scrittura in registri narrativi differenti capacità di utilizzo di tecnologie anche sofisticate io non posso credere che il problema debba essere se un pezzo viene pagato 5 euro 10 euro 15 euro non è una maniera di affrontare la nostra professione come posso dire con orgoglio non può essere non è davvero possibile che persone che io conosco con una formazione altissima debbano confrontarsi con questa povertà che c'è al momento questa difficoltà di affrontare le sfide economiche del contemporaneo quindi probabilmente il vero problema che dobbiamo affrontare in questi quattro giorni non è quanto deve guadagnare un giornalista al pezzo ma è come si deve ripensare il mercato editoriale e come va ripensato il lavoro redazionale quali sono le molle che in questo momento fanno scattare determinati sistemi che possono permettere a una redazione di sopravvivere possono permettere a una redazione di trovare dei nuovi collaboratori e che caratteristiche devono avere questi nuovi collaboratori non è più possibile a mio parere pensare che delle giovani firme o anche delle firme un po' più grandi scrivano semplicemente un pezzo di 2-3 mila battute e poi ricevano 15 euro piuttosto che 20 piuttosto che 30 bisogna proprio ripensare il modo in cui i nuovi collaboratori si approcciano a questo e quindi la formazione diventa la prima risposta e io vedo che ci sono degli esempi molto calzanti di formazione che funziona e che fornisce delle nozioni ma fornisce proprio un modus operandi differente a coloro che vogliono lavorare in quest'ambito e ci sono altre esperienze meno efficaci che insomma vediamo ogni giorno lo vediamo anche all'interno dell'università quindi il nostro intento è quello di capire come attualizzare questa professione capire che probabilmente il lavoro del giornalista così come l'abbiamo interpretato fino ad oggi non esiste più vedere quali sono le possibilità capire quale deve essere l'intreccio di saperi perché oggi bisogna avere delle competenze molto più eterogenee rispetto a prima bisogna avere una padronanza degli strumenti di comunicazione bisogna essere capaci di declinare la propria scrittura le proprie competenze in funzione di differenti media perché anche sul territorio regionale non mi sembra che tutte le testate giornalistiche che si approcciano a questo mondo il mondo del giornalismo non so se è il mio non mi sembra che tutte quanti si pongano in maniera differente con una modalità di lavoro di scrittura di registro di narrazione in maniera differente rispetto a ogni media e quindi credo che la formazione professionale e l'apprendimento che potremo avere da queste quattro giornate possa essere il momento di partenza insieme per rivedere che cosa ci serve oggi per lavorare ancora come giornalisti e vorrei appunto ripensare un po' al mercato le persone che sono che saranno qui oggi a cominciare da Cristian Rocca ma per proseguire anche con Valtorta che è il direttore di XL che ci racconterà il modo in cui XL per esempio sta passando da un'esperienza di stampa su cartaceo è un ottimo lavoro fatto sui social sui social media con il sito ha una versione esclusivamente digitale della testata giornalistica e l'analizzeremo anche insieme ad Emanuele Bivilacqua che sarà in streaming con noi perché pagina 99 è un altro interessante esempio di quello che significa oggi porsi con criticità sul mercato editoriale pagina 99 dove è partito lo sentiremo nel pomeriggio direttamente dalla voce di Bevilacqua è partita come testata giornalistica con un'idea di quotidiano a cui univa un lavoro sul web è un lavoro come settimanale e nel giro di qualche mese ha dovuto comunque ripensare tutto questo lavoro in funzione del mercato quindi cercheremo di capire quali sono le molle che fanno scattare determinati funzionamenti e quali devono essere le competenze di oggi detto questo io vi ringrazio spero che visitiate la nostra pagina su facebook di pool da cui lanceremo tutte le notizie e condividiate quanto più possibile insieme a noi questo festival interagendo usando l'hashtag link festival mandandoci suggestioni e mandandoci domande quindi grazie di essere qui e io ridarei a questo punto la parola a Marina Castellaneta per introdurre Cristian Rocca e io nel frattempo mi sposterò vicino al computer per mandare le slide che sarà un brevissima perché appunto iniziamo va detto con notevole ritardo e quindi sono tutti qui per sentire Cristian Rocca e quindi ovviamente finora invece hanno sentito ahimè solo noi e allora Cristian Rocca naturalmente come si suol dire non ha bisogno di presentazioni ma ci tengo appunto a sottolineare che naturalmente è direttore del magazine del Sole 24 Ore IL che appunto anche riallacciandomi alla presentazione che facevano su laboratori del basso ha proprio in questo mese una copertina molto molto bella e anche il contenuto dell'articolo è molto interessante cioè trentenni e quarantenni hanno conquistato il potere e ora cioè appunto per capire anche che è una copertina anche provocatoria ma appunto oltre ad essere direttore del magazine IL che diciamo è innovativo e magari ce ne parlerà lui stesso anche perché opera come un po' brand extension visto che proprio di recente ha avuto un premio per la diciamo la pubblicazione di una parte di questo magazine nel si premium di carta si e quindi naturalmente ci parlerà poi lui stesso di questa importante novità è stato per tantissimi anni giornalista del foglio e io seguivo molto attentamente i suoi articoli perché era corrispondente dagli Stati Uniti e quindi ovviamente ci ha raccontato anche gli Stati Uniti negli aspetti positivi ma anche negativi ed è tuttora curatore di un blog camilloblog.it magari poi ci dirà lui stesso il motivo della scelta di questo titolo ed è autore di tanti libri in particolare io ne ricordo uno sulle strade di Barney perché appunto illustra e tratta in modo anche molto ironico quello che è stato che è secondo me un libro capolavoro cioè la versione di Barney che è davvero molto interessante e molto bello e quindi naturalmente io cederò subito la parola pregando appunto soprattutto di soffermarsi anche su cosa ne pensa effettivamente dell'evoluzione tecnologica che c'è stata in questi ultimi anni se ha ucciso il giornalismo l'ha trasformato leggevo questo libro La scimmia che vinse il Pulitzer dove appunto alla fine c'è questa frase secondo me abbastanza illuminante c'era il giornalismo e adesso quindi per per cui ci farà molto piacere sentire come in realtà la tecnologia l'avvento del digitale anche alla luce dell'integrazione che sta facendo il sole fra stampa quindi prodotto cartaceo e digitale ha influenza e può consentire anche in realtà lo sviluppo di un mercato mi spiace parlare in questi termini un po' troppo realistici il mercato del lavoro perché in realtà io credo che la formazione e in questo non sono del tutto d'accordo con Michele vada di pari passo ovviamente col mercato del lavoro nel senso che ovviamente la formazione deve cercare di formare professionisti validi ma ovviamente ci deve essere anche la capacità di poi consentire anche a tanti giovani e non più giovani disoccupati di poter anche reinserirsi e creare delle nuove strutture editoriali anche quindi naturalmente passo subito la parola appunto a Cristian Rocca che siamo ansiosi di sentire grazie grazie a tutti i colleghi qui sul palco soprattutto grazie a voi come diceva l'assessore insomma è molto bello vedere tanti ragazzi giovani interessati a questo tema del giornalismo che tutti sappiamo essere in crisi però iniziative come questa come quella che c'è stata a Milano nel weekend scorso di Organizzata da Repubblica gremita di gente che era andata lì ad ascoltare le firme di Repubblica come cambia quel giornale ci sono tanti altri festival come sapete in giro per l'Italia ci sono le iniziative che fa il Corriere della Sera dentro gli spazi di Via Solferino ogni giorno ci sono dei convegni presentazioni si parla di giornali di giornalismo la gente ci va ovviamente non parlo di quelli del Sole 24 Ore che sono molti abbiamo pure una formazione insomma ci sono moltissime moltissime altre cose però insomma vedere questo interesse questa questa così tanta gente insomma è un po' in contrasto con quello che si dice su questo su questo mondo e proprio per questo io ho pensato quando con Michele abbiamo pensato di strutturare questo mio intervento parlerò ovviamente del del mio giornale ho pensato che forse convenisse partire dall'inizio dall'inizio non della mia professione ma dall'inizio della mia direzione del mensile del Sole 24 Ore Michele tu hai come vedete mi pare io non lo vedo ok alle spalle vedete questa prima slide è il il giornale quando è nato nel 2008 nell'ottobre 2008 io non facevo tutt'altro è nato questo mensile cosiddetto maschile perché poi nel mercato c'è questa necessità di mettere delle categorie su tutti i giornali è nato nel momento ancora in cui non c'era la crisi che stiamo vivendo adesso ed era un momento in cui tutti i quotidiani avevano non avevano spazio per dove mettere la pubblicità tanta era la richiesta tanto il mercato era forte allora nascevano moltissime iniziative editoriali legate ai quotidiani dei settimanali i settimanali femminili i maschili i mensili i bimestrali i giornali verticali molto dedicati a settori specifici perché c'era necessità di contenere questa massa di pubblicità incredibile che c'era a volte i prodotti erano all'altezza altre volte no il risultato oggi è che in una crisi quella che conosciamo tutti economica ovviamente molti di questi giornali hanno chiuso perché non ci sono più non c'è più la pubblicità il mercato italiano è andato a scemare quindi è nato questo giornale che è stato subito sin dall'inizio innovativo per il modo di affrontare la confezione di un giornale e siamo nell'ottobre novembre del 2008 io puoi andare anche con la seconda io sono diventato direttore di questo giornale nel febbraio del 2011 il primo numero mio è uscito il numero 39 è uscito nel marzo del 2011 perché dico voglio cominciare da questo mio inizio perché credo che nella prima copertina che ho fatto che poi vediamo c'è tutto sommato quello che io penso dello stato del giornalismo attuale ed è una posizione un po' in controtendenza rispetto a quello che vi sentite sempre dire che in parte è stato detto anche qui e forse anche in controtendenza rispetto allo stesso spirito di questo festival che è quello appunto dell'integrazione delle varie piattaforme della multimedialità e così via io non sono così pessimista come dice il conventional wisdom in questi giorni non che non riconosca la crisi e non che non voglia disconoscere le difficoltà che ci sono in questo periodo però secondo me bisogna stare un po' attenti allora nella prima copertina che ho fatto ho deciso di puntare su una famosa frase di Mark Twain lo scrittore giornalista umorista americano che a un certo punto fece su un giornale americano fu fu annunciata la notizia della sua morte e ovviamente non era non era morto e lui mandò al giornale una smentita una smentita che era puoi andare forse con la terza slide era questa la notizia della mia morte è fortemente esagerata allora ho pensato di quando ho preso la direzione di Hill nel marzo del 2012 di partire con questa cosa un po' apparentemente funerea ma in realtà giocosa e molto ottimista e con i grafici con gli art director del mio giornale abbiamo reinventato una fittizia prima pagina di un giornale diciamo antico con le colonne piene di piombo eccetera abbiamo tirato fuori questa cosa la notizia della mia morte è fortemente esagerata e poi non so se si legge c'è scritto l'autoironia di Mark Twain per smentire chi dice che i giornali sono finiti ovviamente nessuno nega le difficoltà della stampa ma l'epitaffio della carta è quantomeno prematuro perché penso che l'epitaffio della carta sia quantomeno prematuro questa cosa l'ho scritta nel 2011 ma voi siete giovani ma insomma mi ricordo benissimo una copertina dell'Economist che secondo me è uno dei più bei giornali del mondo forse il più bel giornale del mondo il più serio rigoroso che ci sia nel 2006 fece una copertina composta con le lettere ritagliate come si facevano un tempo le lettere anonime dei sequestri di persona la copertina dell'Economist era chi ha ucciso i giornali quindi già otto anni fa si parlava di morte dei giornali e attenzione otto anni fa facebook twitter youtube o erano appena nati o non c'erano ancora eppure i giornali erano morti ancora questi strumenti formidabili di cui si è parlato prima non erano diventati i principali veicoli di informazione per centinaia di milioni di persone quindi già molti anni fa la stampa il giornalismo erano dati per morti certamente l'avvento delle nuove tecnologie ha fatto saltare il modello di business tradizionale che era appunto quello basato sulle copie vendute e in base al numero delle copie vendute la pubblicità che aumentava o diminuiva in base al numero dei lettori tutto questo è finito ovviamente perché la diffusione delle notizie è gratuita e quindi è saltato il modello di business le redazioni sono dovute dimezzare le diffusioni sono calate la pubblicità è diminuita e però si è continuato a parlare sempre di questa cosa qui della morte dei giornali ricordo un libro di Vittorio Sabadin qualche anno forse nel 2007 che si intitolava che parlava dell'ultima copia del New York Times diceva che l'ultima copia del New York Times sarebbe stata stampata nel 2043 quindi tra qualche tempo ci sono state anche delle ricerche mi ricordo una ricerca dell'Università della Southern California che diceva che a fronte di 1400 testate di carta presenti negli Stati Uniti in quel momento dicevano che nel giro di cinque anni quindi questa cosa è del 2011 quindi diciamo nel 2016 sarebbero rimasti soltanto quattro quotidiani nazionali negli Stati Uniti il Wall Street Journal USA Today il New York Times e il Washington Post a fronte di 1400 testate di carta la verità è che è finito un modo di fare i giornali la cosa un po' che diceva che si diceva poco fa è finito quel modo di fare i giornali non è finito il modo di dare notizie o di scrivere ovviamente l'industria l'industria è in crisi ci sono tagli molto dolorosi molti giornali sono chiusi i contratti di solidarietà nelle redazioni i prepensionamenti che però non sono soltanto un problema per chi già fa questa professione ma sono un problema per voi che volete accedere alla professione perché se i giornali sono in stato di crisi non assumono anche se adesso è possibile con la nuova 416 assumere dei giovani però appunto a stipendi molto più bassi insomma il mercato è in crisi la crisi c'è però non c'è mai stato come in questo momento una diffusione delle notizie come quella che viviamo adesso oggi voi stessi adesso su twitter su facebook state state scrivendo state dando delle notizie milioni di persone lo fanno quindi non è finito il mestiere di giornalista cioè di chi racconta commenta analizza le cose e i fatti che accadono è cambiato il modello il problema è che ancora soprattutto gli editori noi giornalisti e spero non le scuole di giornalismo non hanno ancora capito bene qual è il nuovo modello e non hanno ancora accettato la realtà ci sono ormai aziende sapete benissimo che pensano al digital first cioè cominciano sin dall'inizio a pensare ai contenuti digitali prima ancora di quelli della carta lo stesso Sole 24 Ore è un giornale che ha puntato moltissimo sulle copie digitali è uno strumento Sole 24 Ore tradizionalmente è uno strumento di lavoro per i professionisti avvocati commercialisti i quali sono i più attenti a volere questo strumento anche sul digitale infatti il Sole negli ultimi anni è diventato il primo quotidiano digitale come numero di lettori e di abbonamenti e quindi c'è questo mondo che va un po' in parallelo da una parte le notizie di chiusura di giornali ci sono addirittura dei siti macabri negli Stati Uniti dei newspaper Death Watch che raccontano tutti i giornali che chiudono ci sono degli altri degli altri siti che si chiama newspaperlayoff.com che raccontano quante persone ogni giorno ogni settimana ogni mese vengono messi vengono licenziati negli Stati Uniti come sapete è molto più facile di licenziare rispetto all'Italia cioè è un paese fondato sul precariato e quindi molto più facile non ci sono assunzioni a tempo indeterminato però a fronte di tutto ciò ci sono anche degli aspetti positivi non solo la diffusione delle notizie è sempre più grande grazie ai nuovi strumenti ma anche degli imprenditori che decidono improvvisamente in questo momento di crisi di devastazione di scenari data reggenda di investire sui giornali sul giornalismo sul giornale di carta ci sono vari esempi Jeff Bezos lo conoscete tutti il proprietario fondatore e proprietario di Amazon quindi uno dei siti di e-commerce più importanti del mondo ha comprato di tasca sua neanche attraverso Amazon ma proprio dal suo patrimonio il Washington Post il giornale del Watergate il giornale della politica americana il secondo terzo giornale più importante degli Stati Uniti e di conseguenza del mondo c'è stato uno dei fondatori di Facebook che ha comprato New Republic che è un settimanale poi diventato quindicinale storico della sinistra della sinistra americana e l'ha comprato rinnovato puntando ovviamente alla integrazione tra carta e web eccetera ma ha comprato la testata e ha comprato il giornale di carta ci sono grandi investitori americani famosi che hanno comprato decine centinaia addirittura di testate locali insomma l'iniziativa di pagina 99 è un'iniziativa nuova nata poco un mese e mezzo fa ed è un'iniziativa che si punta sul digitale ma ha puntato molto adesso su questa edizione del settimanale ma potrei fare vari esempi su questo tipo e poi c'è anche da considerare una cosa che noi sempre con la nostra visione occidentalizzata non consideriamo che è un discorso che peraltro va in parallelo con quello della crisi economica perché se è vero che la globalizzazione tutto quanto eccetera ha portato a dei problemi diciamo nell'occidente è anche vero che ci sono intere zone del globo che non avevano niente letteralmente di che mangiare che improvvisamente sono usciti dalla povertà grazie a questa redistribuzione delle risorse che subiamo noi ma che altri invece stanno godendo è una cosa che non dice mai nessuno ma negli ultimi dieci anni 3 miliardi di persone sono uscite dalla povertà estrema negli ultimi dieci anni la ricchezza negli ultimi vent'anni globale si è raddoppiata e se si va a vedere cosa succede in questi posti parlo principalmente dell'India della zona dell'Asia Pacifico parlo del Brasile parlo del Sud America c'è un nuovo rinascimento per il giornalismo e per i giornali di carta per il giornalismo perché spesso si è usciti da situazioni o di guerre civili o di dittature dove ovviamente diciamo non erano il libero pensiero non era non era permesso e mentre con la democrazia con l'apertura della società ovviamente sono nate nuove stanze sono emerse nuove stanze sono anche nati quindi di conseguenza nuovi giornali che le potessero convogliare ma si punta proprio molto sui giornali di carta e la ragione è semplice ovvio che le notizie generali di quello che succede in Ucraina lo digitiamo su Google e troviamo certamente qualcuno che ci racconta più o meno bene una fonte di un qualche giornale che racconta che cosa sta succedendo ma se sei un paese lo trovi probabilmente in inglese ma lo trovi anche in italiano quindi nella lingua in cui non lo cerca ma se sei diciamo in India un paese come sapete molto popoloso dove ci sono molto popoloso molto grande molto diverso con centinaia di lingue parlate e ovviamente ogni comunità ogni regione ogni piccola enclave dentro altre regioni che parla non ha un dialetto diverso una lingua diversa ha bisogno del suo strumento di informazione ha bisogno delle notizie locali che sono locali però stiamo parlando comunque di miliardi di persone e così via quindi in India c'è un boom dei giornali di carta straordinario ovvio che anche lì con l'evoluzione col progresso con la maggiore ricchezza ci sarà una diffusione maggiore delle nuove tecnologie e anche lì a un certo punto aumenteranno le cose digitali le piattaforme digitali rispetto a quelle di carta però è un dato di fatto e tra l'altro quando avevo fatto questa copertina l'ultimo dato era del 2010 quindi già quattro anni dopo quel titolo dell'economist che ha ucciso i giornali il dato impressionante era questo che nel 2010 le testate di carta pubblicate nel mondo erano 14.853 ma la notizia era che erano 300 in più rispetto all'anno precedente cioè quindi nel momento di massimo della crisi in realtà il giornale di carta crescevano è il dato più incredibile di allora e adesso credo che non sia più così credo ma purtroppo non ho dei dati che me lo possono confermare è che nel 2010 ogni giorno i giornali di carta raggiungevano 2 miliardi e 300 milioni di persone cioè questi 14.853 giornali che venivano pubblicati venivano comprati e letti da 2 miliardi e 300 milioni di persone ora in quel momento 2010 il numero degli utenti totali della rete cioè quelli che accedono alla rete erano 1,9 miliardi cioè nel 2010 c'era il 20% di copie cardacee vendute in più rispetto al numero totale degli utenti su internet cioè è una roba se ci pensate incredibile e quindi insomma stiamo attenti a dire la carta è morta digital first tutto quello è importante fondamentale la crescita del web è ovviamente imperiosa è inarrestabile e io non lo dico diciamo da da neoluddista o da regressista io appunto si citava poco fa Marina il mio blog io ho un blog di informazione giornalistica che adesso uso purtroppo poco a causa di twitter che mi impegna diciamo tantissimo da più di dieci anni cioè era anzi è stato uno dei primi due tra i primi due blog di informazione giornalistica generalista perché c'erano ovviamente quelli più diciamo tecnologici specializzati ovviamente c'erano da qualche tempo in più però diciamo giornalisti generalisti sono stato il primo il secondo e il mio giornale allora era stato il primo che era aperto ai blog quindi diciamo non lo dico da uno che non pensa che le nuove tecnologie siano il male assolutamente io penso che siano due cose diverse faccio una parentesi tu mi hai chiesto perché si chiama Camillo quando ero più giovane c'era un giornale negli Stati Uniti cartaceo che mi piaceva tantissimo che era stato fondato e diretto da John John Kennedy il figlio del presidente Kennedy poi come sapete scomparso lui sì era un mensile di informazione politica ma insomma che mescolava l'informazione politica con la cultura pop e si chiamava George George in quanto il loro padre fondatore George Washington e allora quindi lui ha chiamato il suo generale George allora io appunto dieci anni fa ho detto quella cosa lì mi piace chi è il nostro padre fondatore Camillo Benzo Conto di Cavour e l'ho chiamato Camillo quindi questo è stato ogni volta tutti pensano ma tu ti chiami Camillo secondo no è così la motivazione è esattamente questa da allora ho promesso di non prendere mai l'aereo un piper sul main come è successo al povero John John Kennedy ma insomma questa è la questa è la situazione per cui di fronte a questi scenari da treggenda poi si arriva al al paradosso che lo stesso Economist due anni fa ha fatto un'altra copertina il cui titolo era lo strano caso della sopravvivenza dell'inchiostro perché appunto le cose le cose cambiano diciamo che è cambiato il paradigma originario della stampa il quale era quello di raccontare il mondo al più alto numero possibile di lettori di persone in un luogo specifico questa cosa qui non c'è più il paradigma sul quale è nata la stampa è finito perché non il modo per raccontare il mondo al numero più alto di persone ovviamente è la rete e non si racconta più il mondo ad un luogo specifico tranne i giornali locali che sono appunto fondamentali e quindi a partire anche dall'esperienza dei giornali locali qui abbiamo dei colleghi che fanno la cronaca di di Bari di giornali nazionali oppure appunto la Gazzetta del Mezzogiorno che raccontano la 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 locale questo non lo può raccontare il sole 24 ore non lo può raccontare non lo posso raccontare io col mio blog da da Milano da New York dove sono c'è bisogno di una comunità un'organizzazione giornalistica locale che racconti i la la realtà e proprio da con questo modello cioè il raccontare delle nicchie secondo me è il il futuro del 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 giornalismo nicchie che possono essere locali nicchie che possono essere verticali nicchie che possono come dire eh eh indirizzarsi ad un ad un target eh specifico cioè è quello che è morto quello che è finito è il il modello del giornale omnibus che racconta tutto a tutti non ci sono più i tutti perché le notizie vengono le apprendi la mattina è come un po' sapete quando a me capita molto spesso con le canzoni di musica leggera si diceva una volta e che magari non ho comprato quel disco eh non conosco l'autore eccetera però in qualche modo la canzoncina ti vai al supermercato la senti vai in aeroporto e la senti eccetera quindi quando poi la radio la senti in sottofondo quando poi ti dicono eh hai sentito l'ultima canzone di la senti dice ma io l'ho già sentita ecco con le notizie è esattamente così perché quando ti alzi apri il telefono guardi su twitter le notizie poi qualcuno ti manda le email sei iscritto alle email dei giornali o che ti raccontano che ti danno le notizie in breaking news o hai addirittura come a me ovviamente io sono del mestiere ma ho anche l'ansa che mi arriva su come con gli sms poi ti colleghi a facebook e vedi un tuo amico che nel suo status ha postato un altro articolo quindi diciamo le notizie ci sono e il la pretesa dei giornali cartaci che escono addirittura il giorno dopo perché poi dopo ancora uno non si è ancora fatto la barba e non ha ancora acceso la radio perché poi accendi la radio ci sono le rassegne stampa poi ci sono i programmi di intrattenimento che ti che ti raccontano le cose accendi la tv e ci sono ormai da alcuni anni talk show politici che una volta erano soltanto la sera ed erano pochi adesso sono tutte le sere e anche tutte le mattine su tutti i canali quindi l'idea che tu il giorno successivo esca con un quotidiano di carta o addirittura una settimana successiva con un settimanale guardate fare il mensile è la cosa più incredibile del mondo un mese dopo con un prodotto di carta e raccontare le notizie è una follia è totalmente una follia è uno dei motivi per cui i giornali secondo me perdono copie è questo perché tendono ancora ad essere legati al vecchio modello di dare le notizie quando le notizie sono date diffuse in un altro modo qui stranamente io sto facendo un grande elogio continuativo di Repubblica anche se non sono un suo fan come chi mi conosce sa però Repubblica che ha cambiato da pochissimo il modello di giornale non solo aspetto grafico ha puntato molto dalla settimana scorsa su un tentativo di cambiare l'approccio del giornale fanno delle paginate molto più ampie molto più monotematiche cercano di non dare le notizie perché le notizie ce le hai ma cercano di approfondirle cercano di commentarle cercano di analizzarle ecco questo credo che sia secondo me il punto su cui ancora noi stessi non abbiamo ancora riflettuto a sufficienza non abbiamo riflettuto perché gli editori che in Italia non sono proprio degli editori purissimi hanno molti altri interessi fanno anche altro tentano ancora di inseguire diciamo il vecchio modello anche perché hanno un modello di business che è fondato su quello sulla diffusione sulle moltissime copie e hanno una quantità e abbiamo delle redazioni molto piene di gente anche molto brava che però non è più oggettivamente mi guarda male il presidente dell'ordine ma oggettivamente servono meno persone per fare i giornali proprio per le ragioni più qualificate per questo i master sono anche una cosa molto importante più qualificate ma servono meno persone quindi io penso che la strada per la rinascita dei giornali sia quella appunto di crearsi queste nicchie di puntare su tratti distintivi di fare di differenziarsi dai concorrenti di scommettere sulla qualità di fare dei prodotti belli belli da toccare da sfogliare da possedere da mostrare e quindi secondo me è questa la cosa che dovremmo fare quindi cercare innanzitutto di metterci in discussione e puntare sempre sull'innovazione questa è la cosa che in piccolo noi di IL stiamo cercando stiamo cercando di fare perché perché appunto secondo me questo l'aspetto dell'unicità del prodotto che ha in mano l'aspetto dell'esperienza l'aspetto dell'oggetto fisico da tenere in mano questo valore aggiunto che rispetto alla carta tu hai è una cosa che assolutamente deve essere al centro delle nostre attenzioni altrimenti cercare di inseguire la velocità ma anche la multimedialità l'integrazione con internet è come provare a svuotare il mare con un cucchiaino cioè è una cosa che proprio non sta in piedi il nostro tentativo quindi è quello di 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 reimmaginare il il modello dei dei magazine io ho fatto mettere quasi subito sotto la testata idee e lifestyle del del sole 24 ore perché secondo me non c'è niente di più centrale per lo stile di vita dell'essere umano quello del dibattito delle idee e della diffusione e quindi dell'analisi dei racconti degli approfondimenti degli opinioni dei punti di vista delle prese di posizione che sono appunto tutte robe che differenziano il prodotto di carta più pensato più riflessivo rispetto all'informazione online e per questo abbiamo deciso ho deciso di coinvolgere quelli che io considero i migliori giovani scrittori italiani oltre che molti anche colleghi giornalisti giovani i migliori fotografi italiani i migliori illustratori e soprattutto i designer io ho il mio art director che si chiama Francesco Franchi che è il vero condirettore della mia rivista il giornale nasce dall'incontro di un'idea e della capacità di saperla realizzare nel modo il più possibile unico e diverso e sorprendente per il lettore per cui anche questa cosa di nuovo parlo bene di Repubblica Repubblica è l'unico giornale che io sappia che ha come vice quotidiano che ha come vice direttore un art director e questa è una cosa fondamentale perché come presenti le notizie soprattutto oggi è fondamentale per la riuscita del prodotto e in questo devo dire che c'è stato sono molto orgoglioso di avere tra di noi questi giovani designer questi giovani illustratori mi è capitato più volte che degli illustratori che hanno disegnato illustrato le nostre pagine il mese successivo sono stati chiamati dal New York Times una cosa che magari ai giornalisti non capita perché c'è la barriera della lingua invece se sei un designer o un illustratore ovviamente questa barriera non c'è e devo dire che riuscire a portare sulle prime pagine del New York Times o di altri giornali importanti americani e dei ragazzi giovani come voi di 25, 26, 27 anni che avevano disegnato per noi e perché il nostro giornale è molto apprezzato appunto dagli art director dei vari giornali internazionali lo hanno visto lo hanno convocato gli hanno fatto illustrare intere sezioni del giornale più importante del mondo secondo me questa è una cosa di cui io sono molto molto fiero il premio di cui si parlava poco fa noi con un'iniziativa a parte che facciamo curiamo una rivista per i clienti di Cartasi quindi diciamo è un prodotto diciamo per noi un prodotto corporate che facciamo per i clienti di Cartasi lo facciamo secondo me molto bene e tant'è vero che nel premio internazionale dell'infografica di Pamplona in Spagna che è considerato il Pulitzer dell'infografica e il nostro questa rivista che facciamo ha vinto la medaglia d'oro e secondi e terzi sono arrivati il Washington Post e il New York Times per cui anche questa è stata una cosa molto per cui noi diamo molto diamo molta importanza non solo al contenuto di cui vi invito magari appunto a guardare il giornale e farvi un'opinione ma proprio all'aspetto grafico e alla confezione della rivista perché secondo me è la caratteristica fondamentale questa copertina che vedete qui dietro ha vinto anche pari premi ha vinto il premio Ferrari copertina dell'anno dell'anno scorso adesso siamo candidati a maggio per un'altra copertina uscita a novembre a un premio considerati gli Oscar del Publishing Design a New York siamo nella cinquina non credo che vinceremo però siamo nella cinquina finale per cui è una cosa fondamentale per noi è il lavoro della grafica che non è soltanto quella di saper usare i programmi e avere diciamo del gusto è anche un lavoro giornalistico il mio art director è un giornalista è fondamentale è parte integrante diciamo dell'offerta giornalistica e quindi diciamo adesso magari vedendo anche le altre slide vi racconto un po' come è strutturato questo giornale che è appunto un mensile mi piace di sottolineare appunto di idee e all'interno contiene tre giornali autonomi oltre al giornale diciamo nella sua interezza perché ha all'inizio una sezione che ho voluto chiamare tabloid che è sostanzialmente una rivisitazione del alta del giornalismo popolare basso di anglosassone quello dei titoli gridati magari delle spesso ci sono anche delle ragazze in abiti diciamo non proprio vestite e così via allora noi abbiamo tentato di mescolare quel linguaggio lì molto popolare molto diretto molto con il pieno di punti esclamativi invece con contenuti alti il risultato è spesso un delirio totale però magari non tutti le prime volte lo capisco però a me diverte molto questo gioco che facciamo col tabloid poi c'è nella parte centrale c'è un altro giornale moda che si chiama Visioni dove appunto affrontiamo il tema della moda perché questo giornale nasce come un giornale come vi dicevo maschile e quindi è molto legato al mondo della moda anche dal punto di vista pubblicitario e poi alla fine c'è un terzo giornale che si chiama Rane che è una specie di giornale culturale no è un giornale culturale ispirato graficamente alla miriade di riviste culturali degli anni del futurismo italiano il futurismo come sapete è stato anche un modello diciamo di presentazione grafica delle opere di Marinetti e così via tra l'altro sapete che in questo momento a New York c'è forse la mostra più importante mai fatta sul futurismo italiano al Guggenheim o al MoMA non ricordo e quindi insomma ci siamo ispirati in particolare ad una rivista che si chiamava La Cerba per strutturare questa sezione ora se possiamo vedere allora questo qui diciamo è la seconda copertina che avevamo fatto della quale non sono molto convinto però era un numero dedicato al design e ci siamo ispirati con la grafica ai vecchi manifesti degli anni 50-60 dell'Olivetti erano i manifesti che facevano l'Olivetti avevano questo tratto e ci siamo ispirati a loro questo era il servizio che avevamo dedicato al design italiano al mondo del design italiano e anche qui abbiamo continuato un po' la grafica di quel tipo e la caratteristica del giornale è tranne queste parti che vi dicevo iniziale finale centrale che ogni mese la storia di copertina e gli altri servizi più importanti sono graficamente completamente diversi come se facessimo ogni mese un restyling grafico del giornale proprio per stupire e colpire ogni volta il lettore che spesso se si guardano le riviste soprattutto italiane si fa fatica se non si va a leggere il contenuto e spesso anche il contenuto è uguale e a distinguere il numero di quella settimana rispetto a quello di tre settimane prima o di due mesi dopo questa è una copertina come vedete le copertine sono tutte completamente diverse che avevamo fatto su un reportage che aveva scritto per noi Roberto Saviano da cui questo poi è diventato un capitolo del suo libro sul mercato della droga in Messico e avevamo trovato questo servizio fotografico incredibile di un fotografo spagnolo che in Messico era andato assieme a dei killer della criminalità organizzata messicana e quindi era uno strumento era un servizio molto forte per fortuna qui le foto sono piccole non le vedete ma ci sono teste mozzate e cose di questo tipo questa è una copertina che sia pur graficamente diciamo abbastanza banale e siamo sono molto orgoglioso di averla fatta perché è una copertina dell'estate di due anni fa e dove raccontavamo la 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 rivoluzione energetica che stava cambiando il mondo che era quella dello shale gas adesso tutti parlano di shale gas del Obama all'anno scorso quindi ha parlato all'inizio del nel suo discorso sullo Stato dell'Unione sul fatto che l'America è diventata per la prima volta energeticamente indipendente e come sapete anche alcune ripercussioni della guerra della guerra del conflitto della situazione critica che c'è in questo momento tra l'Ucraina e la Russia è legato al gas di cui noi siamo al gas russo che passa attraverso l'Ucraina di cui noi siamo sui frittori è una delle delle chiavi magari anche per convincere il governo la presidenza russa ad allentare la pressione sull'Ucraina è quella che potrebbe esserci in teoria la possibilità di utilizzare il gas americano che viene da questo shale gas dal fracking dalla possibilità di estrarre un gas che prima non era possibile estrarre e questo sono molto contento di questa copertina perché ne abbiamo parlato appunto molti mesi prima se non un anno prima di quando ne parlassero tutti i giornali internazionali ed è questo il motivo ed è questa un'altra cosa sui contenuti per cui è decisivo il cambiamento di approccio nel fare il giornale se tu fai un periodico una rivista non devi commentare quello che c'è già sui quotidiani ovviamente che a sua volta è già vecchio per le ragioni di cui parlavamo prima devi cercare tu di individuare le cose di cui non parla nessuno devi cercare tu i temi da imporre nell'agenda questo invece era uno stato dell'Italia che avevamo fatto credo subito dopo quella copertina e qui abbiamo preso una bellissima foto di Massimo Siracusa che è uno dei più bravi fotografi italiani specializzato in queste foto così diciamo con questo in questo modo e lì sopra abbiamo messo una illustrazione di Giacomo Gambineri che è appunto il ragazzo di Genova di cui vi dicevo poco fa poco più che ventenne che subito dopo questa copertina è stato chiamato dal New York Times ed è sopra continuo a lavorare sia per il New York Times che per noi sta in redazione da noi questo è il servizio che illustra quello stato dell'Italia con vari articoli e questo è sempre in quel numero dedicato all'Italia è una specie di dossier che abbiamo fatto con molte infografiche e molte illustrazioni puoi andare anche avanti e quindi qui abbiamo coinvolto i principali centri studi italiani che ci hanno fatto un'analisi delle prospettive una fotografia del nostro paese le prospettive per il futuro come vedete tutti i numeri sono completamente diversi l'uno dall'altro può piacere o meno però è una caratteristica fondamentale del nostro giornale questa invece è una copertina che abbiamo fatto in occasione delle elezioni americane presidenziali quelle scorse e qui è un'elaborazione fatta da una nostra illustratrice del se vai avanti Michele vedi di una ho scoperto che Frank Lloyd Bright nel mille guarda un po' la data che c'è in realtà è di dieci anni prima nel 1927 aveva fatto questo disegno che illustra la parata del 4 luglio a Manhattan ed è poi dieci anni dopo era stata scartata perché era considerata troppo estrema per il modello diciamo del grafico ed estetico di quegli anni e dieci anni dopo è diventata la copertina di Town & Country ed è stata l'unica copertina mai disegnata dal grande architetto Frank Lloyd Bright quella è l'originale quella che vedete sulla sinistra sulla destra è la riproduzione che abbiamo fatto noi se puoi andare avanti e noi con quella letta che vedete aprirsi abbiamo ulteriormente modificato il progetto iniziale quindi sono sulla base di una citazione appunto di Frank Lloyd Bright abbiamo ideato tre copertine che la cosa si andava a complicare perché quel mese avevamo in programma una guida della città di Madrid che abbiamo dovuto mettere lì sotto quella letta e quindi è venuto quel delirio che vedete però insomma molto secondo me molto interessante dal punto di vista grafico e giornalistico questo era il servizio che illustra che diciamo di copertina con vari articoli eccetera poi queste sono appunto delle mappe questo è tutto il modo di questa è un'altra copertina che abbiamo fatto quando si parlava molto del governo dei tecnici noi pensavamo che fosse il caso di avere un governo di politecnici cioè insomma di gente non solo economisti ma anche umanisti e anche ingegneri e questo era anche questo è un riferimento a una storica rivista che si chiamava il politecnico e l'abbiamo un po' rivista e riconsiderata vedete tutte le pagine sono completamente diverse l'una dall'altra questo è un doppio numero che era un food issue e un fiction issue se vai avanti vedi che si può leggere sia sopra che sotto questo è un altro numero che abbiamo dedicato alla città che cambia Milano in questi ultimi anni in questi ultimi mesi in realtà sta crescendo in altezza sapete che c'è la storia dell'expo ma in realtà ci sono una serie di nuove insediamenti residenziali e commerciali che stanno cambiando proprio il landscape e il panorama della città e quindi abbiamo messo sotto quella se vai anche un attimo indietro quella lì che sembra diciamo lo skyline di una città magari americana si apriva la letta e vai avanti e si vedeva invece che era con l'arena di Milano davanti si vedeva che invece assolutamente era Milano e così via questo è il servizio questa è un'altra copertina che abbiamo fatto fare ad una illustratrice spagnola che lavora anche per il New York Times queste sono le sue illustrazioni interne questa è una copertina che abbiamo fatto su Elon Musk che è questo geniale personaggio imprenditore che sta investendo privatamente sul mandare l'uomo su Marte e lì ci chiedevamo sì stiamo per andare su Marte ma fare che e questa era la parte delle illustrazioni sempre di questo servizio come vedete di impatto grafico molto forte questo qui abbiamo fatto un numero dedicato alle serie tv americane e abbiamo fatto una copertina appositamente che ricordasse le guide tv che si trovano comunemente nelle edicole italiane e questa è la parte interna tutta illustrata con questo invece un'altra copertina sul mondo ingovernabile e qui mi piace molto con dentro geolocalizzati tutti i problemi che rendono il mondo ingovernabile questa abbiamo fatto un'intervista prima della elezione a sindaco di New York a Bill de Blasio e abbiamo quindi fatto finta di fare la copertina di Time quella Person of the Year che viene fatta ogni anno quando viene scelto l'uomo dell'anno e abbiamo fatto Italiano of the Year perché lui ha come è noto origini italiane e questa è la parte interna sulla sulla cosa questa è la copertina sul food fatta a dicembre dello scorso anno che è quella candidata agli Oscar di New York e queste sono le illustrazioni interne questa è una cosa sul mondo più ricco vai avanti pure tranquillamente questa è la penultima copertina che abbiamo fatto fotografando come peraltro c'è nel vostro numero di pool Wes Anderson questa è l'ultima di cui si parlava ci piace molto mettere questi punti di domanda appunto andiamo su Marte ma a fare che cosa i trentenni e quarantenni hanno conquistato il potere e ora cioè perché i giornali secondo me devono essere degli strumenti di dibattito devono essere dei luoghi dove ci si confronta e si scambiano le idee credo che sia finito quindi insomma avete capito più o meno qual è il senso del modo secondo me di fare giornalismo sulla carta oggi quello di avere dei prodotti unici belli e con contenuti il più possibile differenti rispetto al chiacchiericcio che si fa in tutti gli altri mezzi di comunicazione il tentativo è questo non è una cosa che stiamo inventando chissà che basta guardare cosa succede nel resto del mondo e ci sono molte riviste soprattutto negli Stati Uniti che hanno questo approccio e secondo me dove ci sono dei modelli interessanti lì dobbiamo andare per migliorare la qualità dei nostri giornali del nostro giornalismo della nostra e spero anche vostra professione grazie adesso poi ovviamente potete fare le domande adesso sono aperto alle vostre domande sicuramente spazio alle domande di tutti però ne approfitto un attimo dal fatto di stare da questa parte per farti una domanda giustamente appunto hai dato un quadro che appunto è un attimo ottimista rispetto anche a chi si affaccia non solo alla professione ma anche chi è interessato diciamo alla professione nei media diciamo tradizionali la prima domanda è se in effetti il giornalismo italiano è arrivato in ritardo rispetto alle trasformazioni che il digitale stava portando nel senso che mentre appunto per esempio l'Economist e anche il Guardian che pure hanno integrato sicuramente web e carta stampata non hanno vissuto una crisi nelle vendite se non minima e diciamo in parte fisiologica rispetto anche al ruolo della televisione e appunto all'esplosione delle notizie sul web e sui mobile sui cellulari appunto se invece l'Italia non è arrivata in ritardo e se quindi anche in questo c'è un po' forse una responsabilità degli editori che hanno avuto una visione un po' miope e non hanno compreso che il mondo giornalistico si andava cambiando e poi volevo chiederti una questione riguardo un po' il problema cioè il problema o meglio che ha certamente degli aspetti positivi come per esempio la divulgazione di nel caso Wikipedia con Julian Assange o Snowden per altri profili se questo in realtà incide in misura in parte negativa sul giornalismo investigativo nel senso che noi in effetti abbiamo avuto questa diffusione enorme di notizie e di dati che certamente erano importanti che era importante conoscere anche perché mettevano in risalto aspetti della diplomazia tra virgolette segreta se però questo non ha inciso in modo negativo sul giornalismo investigativo in particolare della carta stampata anche in parte leggevo anche nel rapporto sullo stato delle news che fa appunto un istituto di ricerca americano ogni anno e diceva che in parte forse questa divulgazione di queste notizie scottanti non mediata in parte dai giornalisti perché noi li abbiamo visti un po' catapultati non so sia nel Guardian ma anche sull'Espresso eccetera senza un filtro senza una mediazione del giornalista se non incide in modo negativo appunto questa emissione di dati così anche nel rapporto che esiste fra fonti e giornalista sì diciamo è vero che per rispondere alla prima domanda che il giornalismo italiano è in ritardo dicevo appunto all'inizio che il gruppo del Sole 24 Ore è stato quello che più di altri ha capito questa sfida e appunto ha cercato di portare il più possibile contenuti sul digitale creando anche dei giornali specifici per i vari professionisti che usano il nostro quotidiano come uno strumento di lavoro ci sono due problemi il primo problema è che da noi si parla molto di digitale di online eccetera ma guardate i siti del Corriere della Sera e di Repubblica non sono come il sito del New York Times o del Washington Post o del Financial Times o del Wall Street Journal o dei grandi giornali internazionali nei grandi giornali internazionali non c'è la distinzione tra l'articolo che va sul sul giornale l'articolo che va online che viene aggiornato costantemente che viene mandato via app aggiornato se tu guardi l'app del New York Times non riesci a capire se quel pezzo che stai leggendo è uscito davvero sul quotidiano di carta se c'è sul sito se è stato aggiornato cioè sai che è stato aggiornato perché c'è una data però c'è un orario ma non tutto quello che tu trovi e leggi sulle app e sul sito è il massimo dell'informazione possibile di quell'organizzazione giornalistica in Italia non è così sui giornali sui siti del Corriere della Sera di Repubblica non trovate gli articoli tutti gli articoli del quotidiano ne trovate soltanto alcuni altri sono a pagamento trovate un altro tipo di informazione trovate le notizie brevi trovate quello che in gergo viene chiamato boxino morboso sulla colonna destra che sono quelle gallerie quelle fotogallerie di ragazze nude ragazzi in bikini gattini che fanno salti mortali gol da centro tutto lo strano una via di mezzo tra strano ma vero e paperissima e anche diciamo qualcosa un po' più di più hard che non ha precedenti e non ha presenza in nessun giornale internazionale per cui sono molto indietro i giornali italiani su questo fronte io non potrei mai informarmi se non diciamo con i titoli dal sito del Corriere o di Repubblica perché non trovo i commenti non trovo le analisi non trovo gli approfondimenti se non quelli che la redazione di volta in volta decide di dare al resto del pubblico e se guardiamo le applicazioni su iPad o sugli altri tablet sono assurde sono degli sfogliatori di pdf della pagina fotostatica del quotidiano quasi sempre non interattivi quando sono interattivi c'è semplicemente una gallery in più rispetto alla foto pubblicata sul quotidiano e quindi siamo sotto questo punto di vista all'età della pietra il primo che aveva tentato di fare un'app sul modello delle app americane è stata la stampa che aveva fatto non lo sfogliatore del pdf ma appunto una reimpaginazione del giornale su app dopo credo meno di un anno è tornata indietro perché si diceva che il lettore italiano volesse ripetere digitalmente l'esperienza dello sfoglio del giornale tra l'altro questo non impedisce di fare tutte e due perché lo sfogliatore è una roba che ti costa zero cioè il pdf del giornale ci sono si mettono lì eccetera però sotto questo punto di vista siamo più che anni luce indietro cioè non abbiamo un'informazione davvero integrata le redazioni combattono appunto questa integrazione negli anni si sono fatti dare i sindacati interni si sono fatti dare degli incentivi per scrivere su internet come se fosse come dire oddio scrivo su internet quindi mi dovete dare più soldi perché lo faccio sono delle cose assolutamente che non hanno paragoni la parte diciamo dei boxini morbosi che trovo posso dirlo vergognosa perché non è da giornalismo di qualità è da giornalismo tabloida appunto di come di cui si parlava prima viene giustificato dal fatto che così abbiamo dei così i siti hanno traffico perché la gente va a cliccare quelle fotogalleri e avendo così questo traffico arriva la pubblicità eccetera detto questo è vero che i giornali sono in di carta sono in crisi tutto quanto eccetera ma io ancora non ho mai visto nemmeno negli Stati Uniti dei prodotti internet che stanno in piedi cioè il New York Times ha credo oltre mezzo milione di abbonati digitali ma agli abbonati digitali non perché è un'organizzazione su internet ma perché è il New York Times perché sai che pagando hai quell'informazione lì e gli esempi che facevi tu del cosa avevi fatto il Guardian l'Economist eccetera ovviamente loro hanno due cose una è quella che dicevo prima hanno un'informazione di qualità imprescindibile tu oggi se vuoi sapere le cose del mondo leggi l'Economist e sai assolutamente tutto più di un diplomatico di carriera e lo stesso per il Financial Times per l'informazione economica e finanziaria globale il Wall Street Journal il New York Times eccetera e poi ovviamente hanno dalla loro la lingua inglese che fa sì che ovviamente il loro bacino cioè per loro internet è stato ha consentito a me che sto in Italia di diventare un loro lettore mentre prima non potevo ovviamente con una lingua come la nostra è difficile cioè sì ti allarghi agli italiani che stanno all'estero e che vogliono sapere che cosa succede nel nostro paese per cui siamo indietro continuiamo a fare ancora gli stessi errori e oggettivamente essendo lingua diciamo ristretta a noi abbiamo una difficoltà non indifferente per quanto riguarda Wikipedia e Wikileaks la divulgazione di quelle notizie lì Snowden Assange eccetera intanto quello lì non è giornalismo investigativo ovviamente perché lì c'è stato uno che ha passato delle informazioni lasciamo stare quali siano le motivazioni per cui tutto questo è stato fatto ma fin quando le cose sono state messe semplicemente sul sito di Wikileaks io mi ricordo le prime due tornate di documenti me ne sono occupato professionalmente stavano negli Stati Uniti e le ho cominciato a leggere molti di questi cables e a commentarli ovviamente la semplice pubblicazione in archivio di questi documenti con un titolo che non si capisce neanche bene quale fosse eccetera equivale più o meno a non dare nessuna informazione per cui c'è sempre bisogno di una mediazione giornalistica che molti giornali hanno fatto chi meglio chi peggio ma appunto le abbiamo fatte tutti siamo stati lì a leggere e ci sono voluti giorni e giorni e settimane per andare a scoprire quel piccolo cable di una alla fine tra l'altro non c'era nessuna vera notizia perché erano questi sono i rapporti che la diplomazia americana nei vari stati dove è presente quindi in tutto il mondo mandava a Washington e raccontava la situazione politica di quel paese che spesso è frutto di incontri con politici o con anche giornalisti e analisti e quindi alla fine è una specie di riassunto di quello che sui giornali noi abbiamo letto va bene questo è vero che un po' il giornalismo investigativo ha subito scusami il il secondo passaggio quando hanno cominciato a arrivare altri documenti loro stessi hanno deciso di fare delle partnership con dei giornali con il Guardian e con il New York Times e in parte anche in Italia con l'Espresso perché loro stessi hanno capito che avevano bisogno di un canale attraverso il quale diffondere la diciamo questo semplice database il giornalismo investigativo secondo me se parliamo dell'Italia perché io conosco bene il mercato giornalistico la scena giornalistica americana il giornalismo investigativo in America c'è secondo me non c'è più ma non per colpo ai Wikileaks non c'è più da quando il giornalismo investigativo è diventato pubblicare in anteprima i provvedimenti della magistratura cioè non è aver scoperto le malefatte del politico di turno dell'industriale o del ma semplicemente farsi dare in anteprima e spesso anche ai limiti diciamo della legge degli atti che da parte di un magistrato o da parte della parte civile o da parte di un io mi ricordo sempre mi ricorderò sempre che una volta il ministro dell'interno della giustizia era allora credo non mi ricordo dell'interno Giuliano Amato in una audizione alla Camera disse che ad alcuni giornalisti i magistrati avevano fornito le password per entrare dentro il sistema interno delle procure e dei tribunali per cui non c'era neanche come dire lo sforzo di ricopiarsi gli atti più o meno pubblici ma semplicemente si faceva copia e colla accedendo ai server della procura del tribunale per cui lo stato del giornalismo investigativo italiano è pessimo e risale secondo me da molto tempo fa allora c'era una domanda da parte sua se vuole venire qua nel frattempo vi pregherei di tenere di stare in silenzio perché si sente un chiacchiericcio un pochino fastidioso soprattutto per i per i relatori buongiorno buongiorno a tutti quanti voi buongiorno al collega relatore buongiorno a Valentino buongiorno agli organizzatori buongiorno a tutti quanti voi colleghe e colleghi non sono d'accordo con il relatore sono d'accordo al 90% sono d'accordo su un punto sono Gianni Svaldi sono il direttore del Corriere del Giorno un giornale no ha ragione chiedo scusa sono Gianni Svaldi sono il direttore del Corriere del Giorno un direttore fondato nel 1947 che da domenica scorsa non è più in edicola per la crisi economica sono il direttore di un quotidiano sono fiero di esserlo non sono d'accordo con il collega relatore perché quando dice che siamo tutti giornalisti non è vero che basta avere una connessione per essere un giornalista non è vero che basta avere un tesserino in tasca per essere un giornalista non è vero che basta avere un accesso ad internet a twitter o a facebook per essere un giornalista o avere un blog essere un giornalista è prima cosa un senso di responsabilità è la verifica della notizia è consumare scarpe è lavorare lavorare sodo lavorare ore per la stesura di anche duemila battute perché duemila battute farle col copia e incolla ci metti control v control c ci metti tre secondi altre un minuto e mezzo per titolarlo e hai messo una notizia in pagina non sei un giornalista non sei un giornalista sei uno che ha preso una notizia e l'ha fatta rimbalzare sei un rimbalzatore però mi scusi se ne interrompo noi avremmo bisogno di domande perché altrimenti se facciamo tutti vi dico che questo è l'ultimo intervento che facciamo direttamente usiamo twitter e facebook come abbiamo fatto l'anno scorso per favore usando l'hashtag linkfestia perché abbiamo bisogno di domande assolutamente mi scuso se ho soffritto uno spazio che non era previsto allora la mia domanda è questa Filippo Turati giornalista socialista bravissimo soprattutto bravissimo giornalista diceva diceva che diceva alla fine di uno sciopero di uno sciopero durato due mesi durissimo delle tramvie milanesi dei tramvieri milanesi disse noi non dobbiamo fare i giornali per i tramvieri noi non dobbiamo fare scusatemi penso sempre al giornale noi non dobbiamo fare la ferrovia per i tramvieri la dobbiamo fare per i milanesi allora chiedo al relatore non pensa che oggi tutti quanti noi giornalisti pensiamo troppo a scrivere per noi stessi per i politici per gli opinion leader senza pensare a scrivere un po' più per i cittadini grazie scusa Cristian Cristian naturalmente esprimiamo tutta la solidarietà anche della nostra università per il Corriere del del giorno che è in questa situazione di crisi speriamo che al più presto questa crisi si possa risolvere ricordando che il Corriere del giorno è stato una colonna portante anche per Taranto ma per la Puglia in generale ovviamente la solidarietà anche mia non conoscevo questa situazione ma appunto non sono sono molti sono molte le testate che in questi mesi in questi anni si sono trovate in questa situazione anche anche a Milano diciamo nel centro del insomma nel secondo centro dell'impero ci sono queste queste situazioni quindi ovviamente anche la mia solidarietà io però non ho detto che siamo tutti giornalisti non sono un un fan del del tesserino giornalistico mi scuso con il presidente non mi sta sentendo e non non credo che ci sia bisogno di un bollo dello Stato per per dire chi è giornalista o no anche perché io posso far scrivere benissimo sul mio giornale anche uno che non ce l'ha il 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 io non ho detto che siamo tutti giornalisti ho detto che quel quel tipo di notizie che si facevano una volta la retorica delle scarpe la conosco benissimo l'ho praticata anch'io una parte di quella di quelle notizie non non si fanno più con andare con le scarpe perché se c'è qualcuno che ha che filma un un incidente stradale per parlare di cronaca o una di cronaca nera o qualsiasi altra cosa più più importante più alta con un telefonino e lo mette in rete la notizia il fatto è a disposizione di tutti a proposito di scrivere e fare giornalismo per tutti i cittadini cioè non manca quella cosa lì il fatto la notizia quello che manca è quello che i giornalisti secondo me dovrebbero fare e i giornali dovrebbero il più possibile come dicevo prima orientarsi in questa direzione è quello di interpretarle queste notizie commentarle verificarle capire cosa c'è dietro fare degli approfondimenti fare delle inchieste spiegare perché succedono le cose ma non la notizia in sé io quindi non ho mai detto che la retorica del citizen journalist a me a me non piace perché come dice sempre Gianni Riotta se io ho mal di denti mi devo curare una carie non vado da un citizen dentist vado da un dentista che sa fare quel mestiere però alcune cose dobbiamo metterci in testa che non io vengo da una piccola cittadina siciliana che si chiama Alcamo dove ovviamente ci sono state nel corso degli anni varie iniziative editoriali locali adesso ce ne sono credo due o tre che parlano delle cose della giunta comunale delle cose del territorio e così via un mio professore del liceo ha fatto uno studio sulla stampa sulla storia della stampa ad Alcamo e ha portato come esempio mettendo anche le fotografie delle prime pagine di questi giornali degli anni 50 tu prendi le pagine le prime pagine di questi giornali locali di un paesino della Sicilia degli anni 50 e sembrano non il Corriere della Sera non Repubblica sembrano foreign affairs perché ti parlavano dell'incontro tra Khrushchev e Nixon in prima pagina degli scenari della guerra fredda eccetera perché perché in quel momento non c'era la diffusione non c'era la tv non c'era la diffusione dei quotidiani ovviamente lasciamo stare tutte le cose che sono venute dopo eccetera la gente non si informava e lo strumento della stampa locale era quello che ti portava le grandi informazioni cosa succedeva nel mondo questa cosa ovviamente si è evoluta con la diffusione delle modalità di stampa con la maggior benessere di tutti quanti con la tv con la radio con internet eccetera quelle notizie lì è assurdo che tu li dia con un giornale locale un giornale locale devi dare notizie locali che non ti possono dare dal centro o dall'estero e così allo stesso modo è cambiato il modo di approcciarsi alle notizie la notizia in sé noi ce l'abbiamo noi dobbiamo essere bravi noi che facciamo questo mestiere a saperla approfondire a saperla commentare a saperla analizzare magari ecco raccogliamo la richiesta di Michele Casella appunto di raccogliere domande soprattutto via twitter però anche per chi insomma diciamo che i mezzi sono molto belli i mezzi digitali ma visto che c'è la possibilità di un contatto diretto io ancora lo sfrutterei quindi direi che raccoglierei raccoglierei le domande pregandovi ovviamente di rimanere in un intervento illimitato che siano appunto delle domande quindi magari appunto chi vuole intervenire magari se alza la mano così io raccolgo e vi faccio intervenire prego buongiorno sono Rossella Bufano sono giornalista pubblicista è una rivista legata alla mia associazione la mia professione prevalente è quella di storica all'università del Salento una precisazione vorrei aggiungere e poi le faccio due domande la precisazione essendomi occupata di digital divide in un mio articolo scientifico credo che sia le paure che le aspettative eccessive sulla rete vanno un attimino ridimensionate perché ai noi in Italia secondo io ho analizzato i dati Istat del 2012 bisognerebbe vedere cosa è accaduto in un anno ma gli italiani che utilizzano la rete sono pari al 58% le donne il 47% quindi diciamo che questo mi sente di poter contribuire a dire che almeno in Italia il web è uno strumento che può sicuramente valorizzare il giornalismo ma non è la fonte primaria di documentazione degli italiani per lo meno per non parlare del digital divide internazionale dove in Nord America abbiamo secondo sempre i dati del 2012 dell'Internet World States il 78% rispetto al 63% europeo credo che questo aiuti a meglio essendo una storica a contestualizzare il problema e le domande invece riguardano credo che sia stato chiarissimo almeno per me quali sono i punti di forza della stampa come c'è lo stato benissimo visto che il seminario è legato anche alle difficoltà del giornalismo oggi ho due domande più rispetto a questo lei come ritiene si possa io ho spesso la percezione che c'è una sorta di contrapposizione tra giornalismo ed editoria quanto invece non sia necessario una sinergia perché se non c'è il giornalista l'editore non può pubblicare nessun giornale ma di contro se l'editore è oggettivamente in difficoltà economiche e quant'altro poi chiude il giornalista non fa il giornalista quindi quanto invece non si debba operare in sinergia per risolvere un problema oggettivo di professionalità in un contesto di altissima crisi è sempre legato a questo quanto anche in questo caso non me ne voglio il presidente però ci siamo conosciuti a Lecce e so che è estremamente aperto il dibattito quanto non sia anche necessario perché partiamo dal presupposto che siamo in Italia quindi può anche scrivere chi non è scritto nell'ordine ma in Italia esiste l'ordine c'è poco da fare non possiamo non guardare in faccia la realtà in virtù di questo quanto anche l'ordine a livello nazionale in particolar modo ma non solo debba fare un minimo di autocritica se in un contesto di crisi è possibile che per partecipare a una formazione non mi interessa personalmente perché non conto di diventare altro che quello che sono perché la mia attività prevalente è storica ma penso ai giornalisti professionisti quanto sia oggi difficile accedere a corsi master che costano un pochino un pochino tanto in una situazione di crisi e spesso ciò nonostante uno va a fare anche la prova l'esame finale per il praticantato e non lo supera c'è qualche problema che forse va anche affrontato grazie credo forse su quest'ultima domanda che credo sia più inerente alla formazione rispondo io in realtà i master e i corsi universitari si pagano in tutto il mondo e purtroppo fa parte un po' diciamo che in Italia hanno ancora dei costi ragionevoli se viva a vedere negli Stati Uniti potrà constatare la profonda differenza dei costi esistenti in più ecco io parlo per l'Università di Bari che qui rappresento ovviamente l'Università di Bari ha fatto da anni una politica di proprio intesa con l'ordine regionale di forte ridimensionamento dei costi a scapito ovviamente per esempio del pagamento dei docenti che davvero esiguo proprio per consentire anche a giovani che non hanno tantissima capacità economica di poter accedere a questi master prevedendo delle borse di studio quest'anno nel bambino l'anno scorso ce ne erano nove e prevedendo le rateizzazioni più di tanto purtroppo non si può fare riguardo al superamento dell'esame naturalmente ognuno quando va a fare l'esame ci mette la propria anche capacità di controllo dei nervi di controllo di mettere a frutto le proprie conoscenze quindi quello è un dato su cui nessuno può in realtà influenzare perché attiene molto alla responsabilità personale secondo me sulla considerazione a proposito del digital divide ovviamente non posso che essere d'accordo e qui di nuovo continuo con la sostenere la mia tesi che bisogna fare anche proprio per questo bisogna puntare a fare dei giornali di qualità e anche dei siti delle app di qualità sulla crisi di oggi le sinergie tra giornalisti ed editori ovviamente è difficile generalizzare perché una cosa sono i grandi gruppi come quello per esempio come il mio come il gruppo del 24 ore o del Corriere della Sera o Repubblica è un gruppo Espresso con centinaia e centinaia di giornalisti e le sinergie con l'editore sono diciamo quelle garantite dai rapporti sindacali non possono essere altrimenti ovviamente perché sono gruppi molto ampi però ho notato che cominciano ad esserci a nascere delle iniziative invece piccole che comunque dove l'editore e il giornalista sono la proprietà e la redazione spesso coincidono che non sono male io proprio perché penso che bisogna aggredire delle nicchie e quando lo capiranno non solo i lettori che lo capiscono secondo me benissimo ma gli investitori pubblicitari questa qui diventerà assolutamente la strada da percorrere il mainstream ci sono delle iniziative che io racconto sempre l'iniziativa è nata a Milano un paio di anni fa di una rivista che si chiama rivista studio che è un bimestrale e ha anche un sito e lì ci sono due ragazzi che si sono fatti venire in mente questa idea uno dei due fa il manager l'altro fa il direttore e stanno in piedi da due mesi da due anni è una realtà piccola ma apprezzata le loro cose sono uscite si è parlato di loro anche su altri giornali sono riusciti a organizzare un festival alla triennale per due edizioni cioè necessariamente devono esserci nuove iniziative editoriali che sfuggono al paradigma iniziale e a quel punto non può che esserci una sinergia totale ovviamente tra l'editore e il giornalista Allora io una delle domande che sono arrivate arrivano da Mediterraneo News e c'è un argomento molto interessante cioè serve meno gente per fare un giornale oggi ma deve essere più qualificato quello che penso direttamente anch'io cioè un nuovo modello può essere quello di gruppi di persone con competenze eterogene che realizzano dei contenuti che tra l'altro possono essere venduti in maniera anche molto varia quindi anche a una testata giornalistica che si sviluppa sul web piuttosto che in tv quindi quali dovrebbero essere le figure principali che poi formano questi micronuclei anche redazionali quali sono le competenze necessarie per essere sul mercato magari anche per un gruppo di giovani ti rispondo cominciando con un aneddoto qualche anno fa ero caporedattore centrale del foglio e a un certo punto che un giornale diciamo nato intorno alla figura del suo direttore Giuliano Ferrara e poi tutta una serie di ragazzi giovani ahimè allora io lo ero che facevano che erano redattori che lavoravano scrivevano per questo giornale a un certo punto abbiamo deciso di fare un bando prima per prendere con uno stage pagato retribuito dei giovani giornalisti e abbiamo posto delle condizioni almeno due lingue preferito due lauree anziché tutta una roba che tutta la redazione del foglio messa assieme non avrebbe superato compreso il direttore non avrebbe superato diciamo le selezioni e quindi noi l'abbiamo fatto come dire per cercare per provare a prendere il meglio possibile ebbene ho visto era una cosa di una decina di anni fa c'erano tantissimi ragazzi che avevano quelle caratteristiche che sapevano perfettamente l'inglese magari anche il francese magari anche l'arabo o l'ebraico o quello che era che avevano esperienza internazionale che avevano scritto in varie lingue che conoscevano allora già allora le nuove tecnologie e così via e da quello che mi pare di capire questa è una cosa di dieci anni fa questa è una roba che c'è nel paese perché adesso stiamo parlando ad un seminario di un master ma quando io ho cominciato a fare il giornalista non c'erano i master c'era la scuola dell'ordine e io non sono più vecchio di voi ma non molto più vecchio di voi spero non è moltissimi anni fa ma non c'era soltanto la scuola dell'ordine di Milano non c'erano le Martino non c'erano le università non c'erano i corsi di laurea in giornalismo non c'erano i master c'era forse aveva appena aperto la LUIS credo che faceva un altro un altro corso e poi c'era quello di Perugia che sostanzialmente che era un bivaio per la RAI per il giornalismo televisivo il giornalista si formava per strada facendo la gavetta a me quando sento molti ragazzi che parlano di precariato le cose eccetera ma chiunque ha fatto il giornalista che adesso è in posizioni diciamo al caldo di posizioni in giornali grossi tanto caldo no? perché come sapete appunto sono tutti in stato di crisi però comunque certamente privilegiati rispetto a chi ancora deve accedere beh tutti hanno fatto una volta non ci chiamavamo precari ma ci chiamavamo lui lo sa abusivi io ho fatto per due anni e mezzo l'abusivo in un quotidiano cioè sostanzialmente facevo il lavoro esattamente uguale a quello del redattore accanto a me tutelato con lo stipendio tutti i mesi con i contributi pagati e la pensione quasi assicurata e però venivo pagato ogni tanto poco senza nessuna garanzia o tutela per cui potevo essere mandato via da un giorno all'altro e tra l'altro è successo e quindi ovviamente la differenza non la non la nego tra allora e adesso è che allora c'era comunque la speranza cioè tu sapevi che se ti impegnavi che se facevi ti facevi valere se lavoravi il triplo del tuo compagno di banco tutelato eccetera alla fine in qualche modo prima una sostituzione estiva poi qualcuno andava in maternità poi comunque si apriva una posizione e venivi assunto adesso diciamo non c'è più questa speranza del cosiddetto posto fisso che in alcuni casi peraltro non è neanche negativa ma che non non è limitata al mondo dei giornali è come dire estesa a tutto purtroppo a tutto il mercato del lavoro per cui quando vedo che adesso c'è gente che è certamente laureata che sa le lingue che ha viaggiato ha fatto l'Erasmus fa i master è ovviamente una base di partenza mica da ridere rispetto alle esigenze che servono in redazione detto questo questa è la base cioè una cosa che devi avere necessariamente e in un mondo che è sempre più ristretto per le ragioni di cui dicevamo prima è sempre più qualificato ovviamente la base è probabilmente più colta rispetto al passato ma poi essendo l'imbuto più stretto avranno spazio probabilmente soltanto i migliori ma detto questo che è la base le cose fondamentali sono sempre la curiosità e la voglia di lavorare cioè non è che ce ne sono ce ne sono altre io se dovessi allora se domani mi dicessero vuoi fare il direttore di un giornale importante o cominciare da zero un nuovo prodotto con come dire ambizioso quanto un giornale importante di quelli tradizionali io non avrei dubbi e comincerei da capo perché parti non con il peso diciamo di strutture culture redazionali culture aziendali che sono oggettivamente un peso per il prodotto e potresti accedere diciamo a tutta una serie di nuove leve che certamente sono più preparate di come eravamo noi quando abbiamo cominciato poi c'è una domanda di Livio Addabbo che dice aggredire nicchie e radicarsi sul territorio non c'è il rischio di provincialismo? no secondo me radicarsi sul territorio diciamo l'informazione locale è da che mondo è una parte centrale del giornalismo è ovvio che tutti vorrebbero occuparsi di politica internazionale fare i corrispondenti nei posti esotici o andare in giro per appunto per il mondo però non è che il giornalismo locale sia un giornalismo di serie B rispetto a a quello certo il primo ti consente di viaggiare di visitare il mondo e quello locale no però insomma quella è una cosa fondamentale su cui io punterei perché è un aspetto appunto che l'informazione su Bari e sulla Puglia tu non la puoi avere dalla sede centrale di Repubblica dalla sede centrale di Milano questo è evidente e quindi quel lavoro lì ci sarà sempre vedremo sotto quale forma con quale piattaforma eccetera però quel lavoro lì ci sarà ci sarà sempre quando parlo poi di aggredire nicchie io voglio dire un'altra cosa voglio dire che è finita l'era del giornale che vende milioni e milioni di copie e che quindi è costruito con un corpo redazionale di centinaia di persone con una parte aziendale di altrettante centinaia di persone e che si basa sul modello di business della diffusione e della pubblicità che arriva solo in quanto tu vendi molte copie quella cosa lì non c'è più perché le molte copie la caratteristica dell'essere omnibus ce l'hai come dicevo prima da altre forme di comunicazione non ce la puoi avere dal quotidiano quindi l'unica cosa è fare il miglior giornale che si occupa di politica fare il miglior giornale che si occupa di economia io lavoro su 24 ore che è un giornale di nicchia tra virgolette anche se è una nicchia enorme perché l'economia italiana e quindi la società italiana però è il giornale della finanza è il giornale dell'impresa è il giornale dei professionisti e noi abbiamo un pubblico che ce l'abbiamo soltanto noi può leggere soltanto il nostro giornale se vuole davvero usarlo come uno strumento di formazione e di lavoro quindi non sono cose provinciali o cose piccole o minoritarie sto parlando di uno dei grandi successi diciamo della politica del giornalismo americano degli ultimi anni con alti e bassi ma comunque diciamo in termini di prestigio è un giornale un po' online un po' su carta che si chiama Politico che è quello che un po' ha rivoluzionato il modo di fare informazione politica negli Stati Uniti e che ha svecchiato un po' certe liturgie dei grandi giornali Washington Post e New York Times è un giornale che si occupa solo di politica ed è diventato il giornale di nicchia del mondo interessato alla politica e quindi quando fai la nicchia devi essere anche super specializzato ed essere come dire non il giornale perché l'altra cosa che fa male al giornalismo è quando tu sei lettore sei interessato a un argomento leggi l'articolo e dici bah io di questa cosa ne so dieci volte più del giornalista che ne ha scritto questa è una copia che a lungo termine perdi quindi tu devi essere un giornale che interessa determinate persone e a queste determinate persone devi dare un valore aggiunto volevo fare io una domanda collegata a quest'ultima risposta sui modelli di business mi piacerebbe sapere se ci sono diversi tipi di modelli di business in un giornale e quali sono le componenti anche magari in termini percentuali dei canali di entrate cioè quanto incide su una sostenibilità economica la vendita di abbonamenti quanto incide la pubblicità in termini di ricavi quanto incide e se ci sono degli altri canali e come vengono attivati magari vedendo tre diversi giornali diversi e come poi vanno a costruire questo delicato mosaico che è il modello di business e il diciamo il conto economico io non sono in grado di darvi i numeri esatti malgrado sia un giornalista del sole 24 ore che dovrebbe fare questo ma non sono in grado di darvi i numeri esatti perché non li conosco so più o meno diciamo a spanne quali sono le voci dei ricavi le voci dei ricavi sono divisi a metà poco più l'uno poco più l'altro tra vendite edicola e pubblicità non ce ne sono altri significativi nei grandi giornali pubblicità che sempre più diminuisce sulla carta e sempre più aumenta su internet anche se l'aumento in termini percentuali su internet non corrisponde alla perdita in termini economici sulla carta perché la pubblicità su internet viene pagata molto meno rispetto a quella sulla carta ma tendenzialmente sono questi io ti posso parlare del sole 24 ore che ha tutta un'altra serie di fonti di ricavi importanti che sono la divisione tax and legal che fornisce strumenti di lavoro specifici per i professionisti abbiamo una divisione molto importante di formazione dove facciamo i master c'è una business school del sole 24 ore molto frequentata e questa è un'altra fonte di ricavi c'è la parte del 24 ore di cultura quasi tutte le mostre più importanti a Milano sono organizzate dal sole 24 ore di cultura quindi questa è un'altra fonte di ricavi poi ci sono sì quella diciamo era un inizio ecco perché poi c'è l'altra parte che è quella che sta andando più di moda fino ad adesso per adesso e su cui tutti stanno puntando è quella degli eventi quella degli stati generali nasce diciamo da una suggestione giornalistica e poi è stato fatto questo convegno è stato ripetuto due volte la presenza del Presidente del Consiglio Presidente della Repubblica nel primo caso e il Presidente del Consiglio nel secondo caso però una cosa su cui puntano molto i giornali soprattutto quelli più dinamici è la parte degli eventi perché ormai gli eventi servono a due cose uno formano una comunità e la comunità significa consolidare diciamo il bacino dei lettori e grazie alle sponsorizzazioni portano pubblicità perché ormai sempre meno le grandi aziende vogliono investire in quella che viene chiamata la pubblicità tabellare cioè la pagina sul giornale e sempre più vogliono comunicare attraverso degli eventi per cui tu fai Repubblica 2 scusami Repubblica 2 Repubblica come si chiama Repubblica Idee il festival di Repubblica che ormai è itinerante più volte l'anno viene fatto eccetera risponde a entrambi i requisiti e porta ricavi un altro esempio è il festival di internazionale che è una realtà certamente più piccola rispetto a quelle di cui ho parlato però attraverso il festival che fanno ogni anno a Ferrara aumentano i ricavi è tutto un mondo inesplorato perché questa cosa che ci siamo inventati di cui vi parlavo all'inizio del proporre ad un'azienda Cartasi di fare il loro magazine facendo il magazine non come venivano fatti un tempo dalle grandi aziende magazine fatti un po' con la mano sinistra da service non particolarmente qualificati ma convincerli a affidarsi a grandi gruppi a gente più qualificata che certamente costa di più però insomma per avere un prodotto migliore è una cosa che viene fatta viene ancora fatta poco però per noi per me per il bilancio del mio mensile questa iniziativa fatta assieme a Cartasi la nascita di un nuovo giornale che facciamo noi interamente che si chiama Sea Premium è stato messo a posto il bilancio di quell'anno quindi insomma ci sono una serie di iniziative che si possono fare soprattutto nel mondo con il mondo della moda che sono certamente il mondo della moda è quello che ha più disponibilità in questo momento a investire in pubblicità si possono fare moltissime cose ovviamente anche il food però ancora gli investimenti sul food non ci sono ancora c'è un interesse pazzesco e tutti i giornali come vedete si sono aperti nelle pagine delle weekend parlano molto di food io stesso ho fatto in due anni due numeri dedicati al food perché è ovviamente una tendenza è una realtà della nostra società contemporanea però non è che se fai una cosa particolare Barilla ti dà dieci pagine pubblicità dico Barilla per fare un esempio tra i tanti io unirei due domande che tra di loro hanno dei punti in comune la prima è di Antonio Bargelloni che scrive il giornale locale deve fare approfondimento inchiesta ma le redazioni si svuotano e come si fa a fare insieme il lavoro del desk e l'inchiesta e l'altra domanda di Angelo Lomoro è bisogna fare giornalisti specializzati ma esistono degli ambiti di specializzazione che sono più in crisi rispetto agli altri quindi bisogna specializzarsi e allo stesso tempo bisogna fare inchiesta ma come si fa se le redazioni sono sempre più sguarnite e come si fa se soprattutto in funzione di ambiti specifici diversi sulla specializzazione io non intendevo specializzati su un argomento intendevo quando dicevo aggredire le nicchie eccetera intendevo devono essere scritti molto bene devono essere curati nella diciamo nella confezione e nella presentazione e soprattutto ovviamente non devono dal punto di vista dei contenuti non devono contenere delle cose che fanno rizzare i capelli il lettore il giornalista è comunque un generalista cioè per quanto tu specializzato sia non sei specializzato quanto un professore universitario che si è formato e lavora in quel modo stiamo sempre parlando di una professione che comunque è generalista altrimenti faremo un altro mestiere se uno si occupa di letteratura e recensisce i romanzi conosce la letteratura eccetera ma non è un romanziere spesso purtroppo i giornalisti tendono ad avere una volta si diceva il romanzo nel cassetto adesso nella chiavetta usb che minacciosamente propongono sempre gli editori però sono due mestieri diversi il giornalista è comunque un divulgatore ovviamente uno che deve raccontare le cose per cui dico di stare comunque attenti sulla specializzazione perché se no se è soltanto uno specialista scrivi allora per le riviste scientifiche parli ai tuoi pari non parli al pubblico che è comunque generalista per quanto riguarda desk e inchieste stare al desk e fare l'inchiesta non si può sì e no nel senso che i giornali grandi giornali come sono fatti sono fatti non so come funziona la gazzetta del mezzogiorno ma so come funziona nei giornali nazionali che c'è chi scrive e il suo lavoro è informarsi prendere informazioni sentire le persone e poi scrivere l'articolo più o meno c'è un rapporto di uno a uno c'è anche uno che sta al desk che tendenzialmente tutto il giorno si informa sulle agenzie tiene d'occhio che cosa sta succedendo e poi aspetta la sera l'arrivo dell'articolo e lo passa come si dice in gergo lo mette a posto lo aggiorna con le ultime notizie sente chi l'ha scritto e poi lo titola e poi c'è anche un grafico giornalista che solitamente riceve un foglio di carta del giornalista di desk che disegna la pagina e gli dice qui voglio un pezzo di apertura di cento righe qui una spalla qui un commento qui un corsivo qui metti una fotografia e poi c'è un'altra persona che cerca la fotografia un grafico che spesso ripeto è giornalista che mette sul computer questa cosa scritta fatta a penna e questa cosa qui non ha alcun senso cioè questa cosa di avere cinque persone per fare il lavoro che in tutte le redazioni per esempio online e non parlo di quelle dove i redattori sono schiavizzati con la frusta che entrano la mattina non escono parlo anche di realtà interessanti che fanno giornalismo di qualità eccetera tutta questa roba qui la fa una persona cioè qual è il motivo per cui chi scrive l'articolo rientra a casa visto che poi tra l'altro i giornali italiani chiudono tardissimo rispetto ai quotidiani degli altri paesi rientra in redazione scrive l'articolo e solo titola perché non solo può titolare lui il suo pezzo ci deve essere un altro perché quello che sta il capo redattore non può imparare i software che con sé dell'impaginazione è sulla base di un book con dei format già prestabiliti disegna lui la pagina perché ci deve essere un'altra persona che la disegna quella pagina quando in realtà l'ha disegnata ideata disegnata nel senso di progettata il capo redattore perché ci deve essere un'altra persona ancora che sceglie le fotografie e non può essere giammai il giornalista perché se no i sindacati bloccano le rotative cioè ci sono cinque figure per un lavoro che non dico che si debba fare sempre tutto da soli eccetera però sempre più si va a quella direzione altrimenti non funziona più il modello di business cioè tu non puoi pagare cinque persone per un lavoro che lo può fare una sola persona questo significa che tutti devono fare il desk e anche le inchieste no ovviamente c'è gente che sarà 365 giorni all'anno a cercare notizie a approfondirle a scriverle però si deve andare verso questa riduzione degli organici perché altrimenti i giornali chiudono qui sono un po' più pessimista rispetto a quello che dicevo prima sono Giuseppe Truzzelli docente di estetica delle arti visive all'Accademia di Belle Arti di Bari e giornalista pubblicista proprio in relazione a questa sua ultima risposta sto comprendendo che si va verso una nuova figura di giornalista che aggredisce anche il campo della grafica e se ho cominciato come giornalista della carta stampata mi sono riciclata tra virgolette come fotogiornalista perché il mio magazine mi chiede testi e immagini difficilmente mi penso come grafico giornalista anche perché insegnando in una istituzione che non è lo IED di Milano e l'Accademia di Belle Arti di Bari nella nostra scuola di grafica formiamo grafici e mi rendo conto di tutte le competenze digitali elettroniche di software che io non maneggio che maneggiano i miei studenti allora stiamo andando verso questa nuova figura di grafico giornalista prima domanda seconda domanda come fare incontrare domanda e offerta i nostri migliori studenti come possono arrivare ad essere segnalati da un giornale come il suo il ed ancora considera il suo blog ed altri blog prodotti giornalistici cosa che in genere gli ordini giornalistici non ci riconoscono grazie raccogliamo Cristian forse qualche altra domanda se c'è tra il pubblico prego se però può venire qui mi raccomando facciamo che la domanda sia una e non tre ok io sono Ludovico Fontana del Corriere del Mezzogiorno sono anche sono anche un precario volevo solo fare una precisazione la favola dei due anni di abusivato per favore non la dite più in giro perché adesso non ci sono più due anni di abusivato ma ci sono diversi anni di precariato e legalmente il precariato può anche durare tutta la vita e diciamo i precarii da adesso vengono trattati come gli abusivi di allora dicendo vabbè non ti preoccupare tanto fra due anni ti assumiamo poi alla fine uno che si ritrova a 60 anni tra l'altro senza manco possibilità di fare carriera all'interno del giornale che è anche una delle ragioni per cui è difficile trovare un capo cronista 25 anni adesso se non al foglio dove i giornalisti sono giovani questa era la precisazione la domanda era invece il giornalismo di qualità può anche essere finanziato da fondazioni private quindi al posto di reggersi economicamente da solo al posto di essere retto dal finanziamento pubblico statale o da essere retto da un editore disposto a perdere soldi la tendenza cito l'esempio di ProPubblica negli Stati Uniti è di una fondazione privata che finanzia per il bene collettivo un progetto giornalistico nella maggior parte dei casi d'inchiesta che risponda poi a criteri trasparenti e oggettivi grazie facciamo ancora un'altra c'è qualcosa prego tra l'altro leggevo nel rapporto riallacciandomi un attimo alla domanda di Ludovico nel rapporto appunto sullo stato dei news negli Stati Uniti che c'è proprio una voce nella torta sui finanziamenti proprio dei filantropi il problema credo che sia che in Italia non ci sono così come per il problema del digitale in effetti il problema è un po' del governo che l'agenda digitale c'era nel cassetto da qualche decennio salve mi chiamo Daniele sono esperto in social media marketing scrivo per il Corriere delle Puglie la domanda è questa volevo sapere con l'avvento o meglio l'avvento dei social media che tipo di contributo sia qualitativamente che quantitativamente adatto al giornalismo tradizionale o comunque anche al giornalismo postmoderno questo è quanto grazie ma rispondo diciamo alla tua per prima non riesco a valutare qual è stato l'impatto davvero l'impatto dei social media sui giornali come sai bene da qualche tempo il primo è stato la stampa poi c'è stato il Sole 24 ore poi ce ne sono anche altri hanno cominciato a nominare all'interno della propria redazione dei social media editor i quali si limitano sostanzialmente a diffondere i contenuti del giornale su Twitter su Facebook eccetera questo diciamo nel mio piccolo lo faccio io personalmente con l'account Twitter della mia rivista che ovviamente essendo mensile a contenuti diciamo che molto più radi nella pubblicazione io ho notato una cosa è proprio semplicemente da esperienza non so se l'impatto davvero cioè che davvero sono riuscito a costruire una comunità intorno a questo giornale che per me era fondamentale perché essendo un mensile allegato ad un quotidiano che quindi diciamo non ha problemi di vendite perché siamo legati al quotidiano quanto le copie che vende il Sole 24 Ore quel giorno che usciamo le vende anche il il tentativo del giornale è quello di parlare non solo al lettore tradizionale del Sole 24 Ore ma anche a un pubblico più giovane quella che noi abbiamo definito la classe dirigente del futuro più attenta ai social media alle tendenze alle cose eccetera e io non avevo altro modo non avendo possibilità di fare pubblicità o cos'altro se non andando ogni tanto io in televisione ma in televisione poi alla fine parli agli stessi che magari che sanno cosa è il Sole 24 Ore lo comprano e così via mi è servito moltissimo a creare una comunità è una comunità che è centrata soprattutto che all'inizio è centrata sui designer su quelli appunto molto attenti all'estetica si parlava poco fa perché il giornale appunto ha questi designer molto bravi giovani bravi molto quotati e quindi intorno a questa cosa qui diffondendo i contenuti siamo diventati un punto di riferimento di varie comunità del mondo culturale letterario romano milanese e quindi io questa cosa l'ho vista crescere l'ho vista e secondo me a meno che poi non siano tutti bugiardi per quello che dicono nei loro tweet e così via sono riuscito a portare non ti so dire in termini numerici l'unico termine numerico che ho è il numero dei followers il numero dei retweet queste cose qui una serie di persone che non conoscevano questo giornale sono andate a comprarlo e quindi secondo me è molto utile non riesco ancora a capire se queste figure un po' artigianali dei social media editor nati perché non prendono delle persone che si sono sempre occupate di questo e li mettono nei giornali e provano a diffondere i contenuti ma sono sempre reinventarsi la professione non so quanto siano davvero efficaci questo sinceramente non sono in grado di stabilirlo però secondo me è fondamentale questo era per Daniele grazie a te grafica giornalisti grafici sì questo anche per rispondere alla domanda precedente di Michele io se fossi se dovessi dare un consiglio a uno che vuole intraprendere la carriera nel mondo dei giornali certamente gli direi fai la carriera cioè studia per diventare un graphic designer studia per per riuscire a conciliare diciamo la 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 tradizionale giornalistica la capacità di capire le notizie saperle commentare così via con la capacità di saperle presentare sia dal punto di vista diciamo materiale dell'uso dei software sia dal punto di vista della capacità di inventare nuovi linguaggi attraverso l'infografica attraverso la grafica certamente non avrei dubbi a consigliare questa strada non solo perché è quella del futuro non solo perché è quella che manca di più dentro i giornali ma anche per la cosa banalmente di cui vi parlavo all'inizio che è l'unica con cui vi consente di fare questo lavoro anche collaborando o trasferendovi all'estero perché a meno che non siate madrelingua inglese francese tedesco eccetera per un giornale straniero è difficile che si possa competere con chi la lingua l'ha studiata per quanto bene la sappiate come voi mentre quegli strumenti lì la cultura classica che in questo paese per fortuna abbiamo ed è un vantaggio in più il gusto per il bello che abbiamo innato nel nostro DNA se tu sulla base su questo costruisci un percorso formativo con la capacità di utilizzare i software di rappresentare le notizie secondo me è assolutamente la strada del futuro quindi certamente io consiglierei questa strada e secondo me è la cosa che serve di più nei giornali al momento avviene soltanto in termini di art direction però sempre più secondo me la figura anche in livelli più mediani secondo me si diffonderà per quanto riguarda come si fa a segnalare il basta che mi scrivete noi viviamo proprio sul fronte sia sul fronte dei contenuti che sul fronte diciamo degli art director viviamo sugli spunti che vengono dall'esterno noi siamo pochissimi dentro la redazione se facessimo un giornale soltanto con quello che penso io la mattina o con le persone che sono intorno a me faremmo poca strada per cui siamo apertissimi a qualsiasi proposta contenutistica e qualsiasi diciamo offerta di poter realizzare le nostre quindi mi si può scrivere a me all'art director se volete invece parlare più direttamente con quello che di fatto è il mio condirettore senza nessun problema Ludovico Fontana non so dov'è non mi ricordo più è lì sì ma tu dici dobbiamo smetterla ma io non ho detto io ho io ho detto che anche noi abbiamo fatto gli abusivi e non i precari la grande differenza è che noi avevamo la speranza di essere assunti a un certo punto e non tutti ce l'hanno avuta io sono stato fortunato che ce l'ho avuta ma è perché è nato un nuovo giornale quello dove avevo fatto l'abusivato ha chiuso perché i giornali chiudevano anche nel 97 e se ne è aperto un altro e sono entrato facendo ancora un po' di abusivato e poi sono stato assunto ho detto esattamente che la differenza è che prima c'era almeno la speranza di poter entrare ed essere assunto come il compagno di banco e adesso non c'è quindi mi pare su questo abbiamo detto esattamente la stessa cosa detto questo non credo che tu arrivi a 60 anni facendo l'abusivo o il precario e non scali perché nel frattempo quelli che adesso hanno 60 anni diciamo che non lavoreranno più per cui le opposizioni apicali comunque devono essere comunque sostituite quindi anche questo non credo detto questo sul punto ovviamente sono d'accordo detto questo io ho lavorato per dieci anni negli Stati Uniti ho molti amici che lavorano non nei giornali locali del Wisconsin ma nel al New York Times al Wall Street Journal al Washington Post sono precari cioè grandi inviati del New York Times sono precari non hanno un'assunzione a tempo indeterminato come ce l'abbiamo noi privilegiati sono precari da un giorno all'altro come avete visto in milioni di film in quel paese arrivi lì il tuo pass nel tuo badge non funziona più e ti trovi la tua la tua scatola con le cose che avevi nella scrivania è un modello bello da inseguire no però è così ma non si lamentano nel senso lavorano a ritmi vi assicuro infinitamente maggiori rispetto a quelli nostri infinitamente maggiori i grandi inviati del New York Times Washington Post e Wall Street Journal guadagnano meno dei medi inviati dei grandi giornali italiani molto meno molto meno anche la metà è così ovvio che tutti vorremmo avere il privilegio il posto fisso fare carriera divertirsi e avere stipendi molto alti purtroppo il motivo per cui la situazione dei giornali italiani è in crisi uno dei motivi è che molti dei vostri predecessori arrivo ad esserci pure io che sono entrato con l'ultima cosa abbiamo avuto dei privilegi e hanno avuto dei privilegi che sono incompatibili con un sistema che funzioni che stia in piedi finché c'erano i finanziamenti pubblici tutto quanto ovviamente questa cosa stava in piedi finché il mercato andava c'era la pubblicità tutto funzionava più o meno più o meno perché RCS il debito di un miliardo non è che l'ha fatto adesso l'ha fatto in passato quindi l'alternativa può essere quella delle fondazioni ma il caso di ProPubblica e anche quell'altro nuovo adesso non ricordo come si chiama dove è andato a lavorare l'ex direttore del New York Times Bill Keller ancora sono delle esperienze non significative altra cosa è la filantropia altra cosa è il caso di Jeff Bezos che compra il Washington Post per 250 milioni di dollari cioè niente io la vedo più sotto la cosa della filantropia questa cosa è possibile negli Stati Uniti è più possibile non solo perché c'è un numero molto ricchi più alto che in Italia e in Europa occidentale non solo perché hanno una legislazione fiscale che consente di poterlo fare cosa che noi non ce l'abbiamo ma anche perché è una società protestante fondata sulla cultura dell'esempio sulla cultura della comunità così come costruiscono le scuole costruiscono le chiese costruiscono i centri appunto della comunità e sia addirittura insomma è possibile che finanzino dei giornali quindi una questione diciamo di cultura di tradizione fiscale e ovviamente di ricchezza maggiore però voglio dire mi piacerebbe anche anche a me questa cosa qui che ci fossero dei filantropi italiani che diciamo non a scopo di lucro finanziassero dei giornali allora io andrei verso le battute finali dell'incontro se c'è qualche altra domanda al volo e ce la volete mandare c'è una domanda che è arrivata da Michele De Palma che dice la leggo così com'è oggi con la rivoluzione che sta accadendo al mondo dei media si può parlare ancora di opinione pubblica? Soltanto 12 anni fa il New York Times vi ricordate disse che l'opinione pubblica contraria alla guerra in Iraq 13 anni fa era diventato l'altra grande potenza mondiale con la diffusione dei media e delle informazioni ovviamente l'opinione pubblica è sempre più sempre più presente nel dibattito politico civile anche economico del paese parliamo soltanto dell'Italia ma insomma in tutto il mondo ci sono interi come dire movimenti politici che nascono e fioriscono e crescono sulla base diciamo della diffusione delle informazioni a livello virale a livello appunto di diffuso quindi cioè secondo me l'opinione pubblica non ha mai contato quanto ha contato adesso al punto ed era questo il tema di una delle copertine che avete visto prima il mondo ingovernabile da rendere addirittura ingovernabile le istituzioni e i paesi cioè noi abbiamo delle istituzioni politiche democratiche tarate su su un modello anche di diffusione delle informazioni e di creazione del consenso che è ottocentesco e quindi diciamo le liturgie le procedure per l'approvazione delle leggi per prendere dei provvedimenti sono quelle che conosciamo il Parlamento le cose 60 decreti 60 giorni la doppia lettura note robe così che nel mondo della diffusione istantanea delle informazioni della creazione istantanea delle opinioni c'è qualcosa che non funziona perché se tu oggi ieri il governo ha presentato la proposta di legge di riforma del senato secondo me già adesso stamattina io non ho ancora controllato perché ero qui ci saranno dei tweet di gente che dice ancora non è stato fatto niente cioè ci sono delle procedure delle tempistiche delle liturgie che non che non sono più come dire che non corrono più sul binario parallelo della creazione del consenso e della diffusione delle notizie e quindi questo fa sì che il peso dell'opinione pubblica secondo me è addirittura maggiore rispetto a prima allora io ho un'ultima domanda a meno che non arrivino sollecitazioni ed è la domanda un po' anche a chiusura secondo me la scritta Samantha Zagaria che scrive ma io comune mortale di Bari come ci arrivo al sole 24 ore? Studio sì lavoro anche ma non credo basti come ci arrivi ovviamente anch'io ero un comune mortale di Alcamo provincia di Trapani non è che sono nato dentro una redazione di un giornale o avessi parentele amicizie tra editori sinceramente non so rispondere a questa domanda se uno ha questa passione ha studiato per coltivarla deve tentare tutte le strade possibili può riuscire non riuscire ma le strade ci sono il problema è che adesso appunto andiamo verso un assottigliamento di questa poco fa il Presidente diceva che in Puglia i giornalisti sono 5.000 e a Milano sono 25.000 cioè non so se avete detto 25.000 è ovvio che non c'è posto per tutti è ovvio che c'è una cosa odiosa che alcuni hanno il posto fisso e altri no ma tra l'altro questa cosa va sempre più a scemare perché sapete dei prepensionamenti sapete delle chiusure dei giornali sapete dei contratti di solidarietà quindi si assottiglia sempre di più la parte dei cosiddetti privilegiati l'unica cosa è la perseveranza continuare a studiare e tentare tutte le strade un altro suggerimento non ho rompere le scatole ai capi redattori dei giornali proponendo idee proponendo articoli proponendo pezzi non mandando dei curriculum così come in pioggia perché io ve lo dico con tutta franchezza io ricevo decine di curriculum e immaginate quanti ne ricevono i capi redattori dei giornali dei giornali dei quotidiani dei giornali molto più grandi eccetera i curriculum non li leggi una cosa che io leggo è se qualcuno mi dice conoscendo il giornale al quale stanno parlando cioè conoscendo che tipo di prodotto tu stai facendo ti dicono ho visto il suo giornale eccetera il tuo giornale ho visto questa cosa mi piacerebbe fare questo vi interessa questo non facendo come peraltro purtroppo spesso mi capita che mi chiedono se possono fare un'intervista o mi propongono un'intervista ad un personaggio che non c'entra nulla col tipo di giornale che faccio quindi la cosa che io consiglio è guardatevi i giornali con i quali volete collaborare guardatevi nel senso di studiatevi vedete cercate di entrare nella testa di chi li fa e della filosofia di quel giornale sulla base di quello una volta capito fate le proposte mirate state sicuri che i capi redattori i direttori quelli che hanno il potere decisionale se fate una proposta che ha un senso e a cui loro non avevano pensato e un'angolatura giusta vi chiameranno perché i giornali sono fatti col contributo di idee se non ci sono le idee i direttori e i capi redattori sono responsabili del prodotto se arrivano delle altre idee se arrivano una linfa vitale da un'altra parte state sicuri che questa la prendono il curriculum non lo guardano bene un applauso per Cristian Rocca grazie a tutti grazie e un ringraziamento anche alla professoressa Castellaneta e al presidente dell'ordine Lo Sito io vi ricordo vi ricordo l'appuntamento di oggi pomeriggio ci saranno due incontri però Emanuele Bivilacqua poi ci racconterà anche che cosa è successo a pagina 99 e quindi ci sarà prima il suo intervento appena tornate alle 15 in diretta Skype perché pagina 99 in questo momento sta rodando diciamo il suo lavoro e subito dopo l'incontro dal vivo naturalmente con Luca Valtorta a dopo grazie direttore è un'ottima grazie a tutti